Perfetto buonasera, mi chiamo Filippo Taddei, sono professore di economia internazionale qui a John Sopitins School of Advanced International Studies, per noi naturalmente è un piacere ospitare questa occasione di discussione sulla politica economica italiana, la legge di bilancio e tutto quello che ci passa per il cervello adesso collegato. Stasera abbiamo dei panelist, come si dice in questa occasione, di grande livello, almeno due su tre, sul terzo non garantisco, e a Corri a tutto questo la professoressa Graziella Bertrocchi, ma prima di tutto vorrei passare la parola a Massimiliano Mariani, referente di Via l'Italia, che è la mente dietro a questa nostra occasione. Grazie a tutti per essere qui. Grazie al professor Taddei, c'è poca mente devo dire, sono presente ma c'è poca mente. Io mi limito solo a porgere il benvenuto a tutti gli intervenuti e ai nostri relatori a questo evento che è stato organizzato appunto da Via Italia, che è un'associazione culturale che ha, quale mission? Quella di federare le varie esperienze civiche presenti sul territorio nazionale. Ad oggi è riuscita a riunire una trentina di civiche a livello interregionale, quindi andiamo fieri di questo progetto. È un progetto che ha portato anche alla realizzazione di quelli che sono eventi formativi, di cui oggi abbiamo qui un'espressione all'interno del progetto appunto Academy, dove la sfida è quella di affrontare i temi più importanti della nostra attualità, in questo caso economici di forte attualità, quindi proprio di questi giorni impostando il tutto con un metodo che ci deve aiutare a nostro avviso a orientarci nella complessità, complessità della nostra società che ci richiede di trovare dei punti di riferimento, delle costellazioni diciamo noi e a nostro avviso in una società definita della post verità, cioè dove i fatti oggettivi molte volte vengono surclassati da informazioni che non hanno nulla a che vedere con la realtà oggettiva, a nostro avviso in questo inquinamento da informazioni l'approccio scientifico, quindi la scelta del metodo scientifico deve essere privilegiata in quanto il prodotto del metodo scientifico è certamente da mettere al vertice della piramide delle informazioni che dobbiamo privilegiare, quindi a nostro avviso il contesto abbiamo degli accademici ovviamente, quindi al vertice del mondo accademico abbiamo le informazioni che a nostro avviso sono meritevoli di essere privilegiate, nonostante ci troviamo in una società dove purtroppo il mondo accademico molte volte viene bistrattato, sappiamo che c'è chi parla dei professoroni, insomma in modo dispregiativo, cosa veramente da condannare, ma soprattutto noi crediamo che nonostante l'accesso alla conoscenza ormai sia, potremmo definirlo quasi una conoscenza palmare, cioè non per l'evidenza ma per la gestibilità all'interno dei nostri smartphone, a nostro avviso è necessario riportare una gerarchia delle fonti di informazione per orientarci a dominare questa complessità. Quindi università come vertice e come centro della ricerca dell'informazione, delle vera informazione e quindi quale migliore occasione di trovarci qui a Bologna, Bologna che fu ovviamente è stata la sede della prima università del mondo occidentale fondata da studenti a proposito e che viene molte volte attaccata nonostante sia anche di oggi appunto la notizia che l'università di Bologna ha questo primato di studenti, studenti aderenti al programma Erasmus, quindi ha questo primato tra i 33 paesi aderenti al programma Erasmus più che vengono scambiati quindi sia in entrata che in uscita all'università di Bologna, quindi un altro primato certamente da rivendicare. Possiamo dire che l'altro aspetto che ci preme particolarmente è quello di offrire attraverso l'approccio scientifico e quindi attraverso i professori una risposta a quelli che sono i temi attuali, quindi vengo a passare la parola a quelli che sono i nostri relatori che vi presento velocemente che ci introdurranno al tema di forte attualità, il tema economico ovvero parleremo del documento di economia e finanza, la nota d'aggiornamento al documento di economia e finanza, la legge di bilancio oggi e in questi giorni in discussione appunto in Parlamento, le prospettive di crescita e della politica economica. I professori che oggi ci condurranno per mano appunto a affrontare questi temi così fondamentali per il nostro futuro sono, vado ad elencarvi per chi ancora non li conosce in ordine rigorosamente alfabetico, il professor Michele Boldrin della Washington University e della Caffoscari di Venezia, il professor Andrea Roventini della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, il professor Filippo Pattadei che avete già conosciuto, della John Hopkins che ci ospita in questa bellissima aula magna, quindi direi un'occasione in più per godere di questo mondo dell'università, che verranno moderati proprio per farvi capire anche quanto ci teniamo in tutta la dimensione di questo evento da un'altra professoressa, della professoressa Graziella Bertocchi dell'Università di Modena Reggio Emilia del Dipartimento Marco Biagi. Io chiudo questo mio intervento semplicemente richiamandomi a un inciso del discorso di insediamento, anzi di rinnovo del mandato di Barack Obama del 2014 che diceva che gli Stati Uniti sono un grande paese e hanno l'esercito più potente al mondo, ma non sono un grande paese per il loro esercito, ma sono un grande paese per le loro università. Grazie. Passo la parola alla professoressa Bertocchi. Buonasera a tutti, il mio compito è semplicemente di coordinare, di organizzare questo dibattito e di porre qualche parola ai nostri tre oratori. Porrò a tutti e tre la stessa domanda, un paio di domande per movimentare un attimo la discussione e mi terrò su domande molto ampie che eventualmente loro stessi potranno declinare come preferiranno. Quindi comincerei con una prima domanda e darei a ognuno dei tre una decina di minuti, mi permetterò di fermarli se andassero molto oltre, dopodiché a una prima domanda un po' più generale, farò seguito con una domanda più specifica su quello che è il tema di stasera, dando ancora una volta sempre una decina di minuti, poi ci sarà naturalmente tempo per domande vostre e le risposte degli stessi. Quindi partiamo da quello che è una domanda molto ampia, qual è lo stato dell'economia italiana? Come la vedete voi? Da dove siete? Siete in istituzioni tutte accademiche, di tipo abbastanza diverso una dall'altra, lavorate in contesti diversi, ma comunque come è stato detto in campo accademico, ma con esperienze anche più o meno dirette, anche fuori dall'accademia come l'audience sa. Quindi riuscite a inquadrare per noi stasera quello che è lo stato dell'economia italiana e eventualmente declinandolo in due dimensioni, considerazioni di medio-lungo periodo, cosa è successo negli ultimi 20-25 anni e successivamente qual è la congiuntura, cosa sta succedendo in questi ultimi mesi, anche in contesto internazionale, cosa sta succedendo anche prima ancora di arrivare a parlare del DEF a seguito dei movimenti innegabili di tipo politico che si sono verificati. Quindi do la parola, non so, potremo cominciare da destra poi fino a sinistra e cambiare l'ordine e quindi Filippo, soltanto deve essere sempre in mezzo, magari potrà iniziare con le domande. Passiamo, siamo quattro economisti, possiamo secondo me anche invertire. Possiamo provare molte cose. Bene, allora do la parola a professor Roventini. Grazie, tanto grazie. Sì, ok, innanzitutto grazie per l'invito, per questo dibattito che sarà sicuramente molto interessante. Lo stato dell'economia italiana, forse su questo saremo tutti e tre d'accordo, penso che non sia buono e non è buono sia dal punto di vista di lungo periodo che dal punto di vista di breve periodo. Lo vediamo anche negli indicatori, cioè da quando si è creato l'Euro il tasso di crescita dell'Italia è sempre più basso, è sempre agli ultimi posti, o è l'ultimo o il penultimo rispetto agli altri paesi europei e questo basso tasso di crescita dell'Italia deriva principalmente dal fatto che la nostra produttività non sta crescendo come quella degli altri paesi europei. Questo perché? Questo succede perché quando si è rinunciati alle svalutazioni competitive, che era un modo per mascherare da un certo punto di vista i problemi della nostra economia, i nodi sono venuti al pettine e in tutta questa situazione l'Italia invece di sfruttare quello che in inglese viene chiamata la cosiddetta Windows of Opportunity, cioè la possibilità di riformare la propria economia sfruttando il fatto che potremmo pagare dei tassi di interesse molto più bassi grazie all'entrata nell'Euro, non abbiamo fatto le riforme che dovevamo fare e quindi siamo in una situazione di fondamentale debolezza. In tutta questa situazione è arrivata la crisi economica che ha colpito tutto il mondo direi, ma in particolar modo l'Europa e l'Italia e questo ha accentuato già i problemi che ci sono in Italia. Questo anche perché il policy mix che è stato proposto, che è stato consigliato a livello europeo, cioè un mix di austerità fiscale e politiche per riforme strutturali per flessibilizzare il mercato del lavoro non ha rilanciato la crescita in Italia. Ora il punto non è tanto dire, c'è ampia evidenza sul fatto che l'austerità fiscale non funziona, nel senso non stabilizza il rapporto debito-pil, però il problema è che di fronte a questa situazione l'Italia non ha messo le poche risorse che erano a disposizione, dato che dobbiamo far fronte al nostro vincolo di bilancio, per stimolare l'innovazione e la crescita della produttività. Quindi se guardiamo alcuni parametri, ad esempio alcune statistiche sulla spesa della ricerca e sviluppo in Italia, la ricerca e sviluppo in Italia sia a livello pubblico che a livello privato è tra le più basse in Europa, non si mettono soldi in università e nella ricerca e questo crea dei grossi problemi per il nostro paese. Unito a questo si è rinunciato per molto tempo a fare politica industriale, in parte dovuto a mio avviso anche per lo smantellamento dell'IRI e con le privatizzazioni che non sono state fatte nella maniera giusta, anche perché spesso queste imprese privatizzate la prima cosa che hanno fatto è stato ridurre la loro ricerca e sviluppo, l'investimento in ricerca e sviluppo e un altro problema dell'Italia, mi avviso, anche se siamo in Emilia devo dirlo, è questo mito del piccolo e bello, cioè che le piccole imprese sono sufficienti a trainare la crescita della produttività e dell'economia. Ovviamente le piccole imprese sono le risorse, ci vogliono, però l'Italia manca anche una componente di grandi imprese. Quindi in questa situazione, anche se negli ultimi 20 anni più o meno abbiamo fatto i compiti a casa dal punto di vista fiscale, perché comunque l'Italia ha avuto degli avanzi primari in Europa che sono comparabili solo a quelli della Germania, le poche risorse che abbiamo non sono state spese bene e questo spiega perché noi riusciamo a ripartire, perché la nostra produttività è bassa e di conseguenza perché la nostra crescita del prodotto è bassa. Quindi è una situazione molto rischiosa perché ci stiamo avvitando sopra noi stessi. In tutto questo con la crisi è aumentata fortemente la disuguaglianza, abbiamo una disuguaglianza che in Italia è molto grande, non solo disuguaglianza nel reddito, abbiamo anche una disuguaglianza molto grande territoriale fra nord e sud e una disuguaglianza molto grande tra giovani e vecchi. Quindi un'altra componente secondo me che denota, che dà un indicatore, che dà uno specchio del perché l'economia italiana è debole e dei problemi dell'economia italiana è l'emigrazione. Quindi tutti pensano, tutto il dibattito purtroppo adesso è sull'immigrazione, ma i veri problemi dell'Italia sono l'emigrazione, cioè i nostri giovani soprattutto con qualsiasi livello di istruzione che devono emigrare e spesso emigrano dopo aver fatto un master, dopo aver preso un PhD. Quindi questo dovrebbe essere un indicatore che secondo me dovrebbe essere utilizzato da ogni governo come spia, come indice, come marker per far ripartire l'economia italiana e quindi per valutare l'impatto di eventuali politiche. Bene, quindi dà la parola a Filippo. Grazie naturalmente a chi è venuto l'idea e grazie a chi è venuto oggi, soprattutto a voi che siete qui. Dunque, tre economisti, anzi quattro economisti che parlano dei problemi del paese vuol dire che la parola che viene pronunciata nel giro delle due frasi e produttività è già stata pronunciata, quindi siamo tutti d'accordo. Il tema essenziale è questo, pensare a come la politica economica che si sta realizzando possa intercettare il problema della produttività. Ora, cerchiamo di farlo in maniera intelligente, che vuol dire non da economisti, cioè vuol dire riconoscendo che c'è una validità del processo politico che va accompagnato. Il punto è quanto tu vuoi accompagnare il processo politico e quanto invece tu vuoi pensare a quelli che sono i tarli strutturali, i difetti strutturali della nostra economia. Io vorrei che stessimo innanzitutto su una statistica, una statistica secondo me essenziale per guardare al deficit, quello corrente del nostro paese. Questa statistica ha a che fare con la composizione del nostro prodotto interno lordo. Se guardiamo la composizione c'è una componente che è assolutamente deficitaria rispetto alla nostra storia, che già ha i suoi problemi, la nostra storia, e quella componente deficitaria sono gli investimenti. C'è stato un piccolo miglioramento, il punto più basso l'abbiamo toccato alla fine del 2014, dove il 16,5% del nostro PIL era investito. Per darvi un punto di riferimento, prima della crisi, nel 2007, il 21,5% del nostro PIL era un investimento, quindi c'è una differenza di 5 punti percentuali. Se non altro questo è un effetto di composizione, cioè ti sto dicendo che dato quello che produciamo, che comunque è di meno, oggi, lo era nel 2014, lo è anche oggi, oggi più o meno siamo a 6% di valore della produzione al di sotto del livello che c'era per crisi, quindi manca un ventesimo di quello che producevamo, pur in questa garezza di torta più piccola, abbiamo un problema di composizione, cioè il Paese in questo momento sta decidendo di destinare meno risorse alla costruzione del proprio futuro. Poi possiamo discutere su come queste risorse vengono impiegate, possiamo discutere sull'allocazione degli investimenti, il fatto che questi imprenditori privati che sono sostituiti ai pubblici facciano meno ricerca, ma comunque sia, ancora prima di arrivare là, abbiamo un problema di dimensione. E quindi se vogliamo parlare in termini di prospettiva, quello che dovrebbe colpire la nostra attenzione dovrebbe essere innanzitutto questo, come facciamo a recuperare o a continuare a recuperare questo deficit di investimenti. Oggi siamo al 18,5 del PIL, il che vuol dire che ci mancano ancora 3 punti di PIL, a prezzi correnti vuol dire che ci mancano 54 miliardi, ma scusate, facciamo più di 50 miliardi di investimenti per tornare allo stesso livello di investimenti in proporzione che avevamo durante la crisi, prima della crisi. Ora non è che quello fosse il Bengodi, come ci ricordiamo, perché se voi tagliate l'Italia e la tagliate dal 2000 al 2007, già lì in termini di crescita del prodotto interno loro del reddito medio pro capita reale, eravamo il paese che faceva peggio, peggio tra tutti i paesi dell'Ocse. Quindi già lì non eravamo messi bene, ma se in più ci aggiungi il fatto che questo paese, quello di oggi nel quale noi viviamo, investe ancora di meno sul proprio futuro, ci sono ragioni per essere ancora più preoccupati. In questa, fatta questa premessa, a questo punto valutiamo le scelte, no? Perché la realtà è la realtà, poi bisogna vedere come cerchiamo di cambiarla. Il problema, se vediamo il difetto di questa legge di investimento e poi vi vorrei confessare perché queste cose vengono fatte, non è tanto, non è non solo se volete, il livello di deficit che essa produce, che è un livello di deficit che per la prima volta negli ultimi tre anni torna a crescere. Non è solamente questo il problema, che avendo i problemi che vai conoscete, abito pubblico rappresenta un problema in sé. Il problema è che la composizione di questo deficit eccessivo che noi andiamo a fare non parla di questo difetto di investimenti, che dovrebbe essere invece il cuore del nostro problema. Cioè noi sappiamo perfettamente che questa, l'abbiamo letto su tutti i giornali, io vi guardo negli occhi, so che voi siete una platea assolutamente non rappresentativa di quella che è l'attenzione media del paese, siete tutti persone che ho sospetto si rovinino le giornate leggendo i quotidiani e approfondendo, il che è un vostro problema. Siccome avete questo problema voi queste cose le sapete già, sapete già che c'è questa sproporzione nell'allocazione delle poste di bilancio, l'aumento del deficit rispetto a quello che era programmato del 1,2% del PIL è fondamentalmente allocato in un programma di trasferimenti che ha fondamentalmente voi sapete perfettamente già due pilastri. Il primo pilastro è un incremento dei trasferimenti agli anziani, in particolare attraverso un allentamento delle regole pensionistiche, che è un problema, è un problema perché è una scelta, che costa poco più di 6 miliardi e un altro invece è un piano di alleviamento, contrasto, metterla come volete, della povertà collegato ad un impegno per la riforma dei centri per l'impiego. Su quella del centro di l'impiego, poi ne parliamo magari dopo, non so benissimo che tornerà questa cosa con grazie a te. Ma stiamo qui. Quanto sono gli investimenti pubblici? Ora, un'osservazione saggia è osservare il livello degli investimenti pubblici a fine 2017. Lo dice una persona che non è che abbia una particolare fiducia negli investimenti pubblici, ma facciamo finta che siano la cosa centrale. Bene, oggi noi giriamo alla fine del 2017, dove c'è stato un incremento rispetto al 16, del 12% di investimenti pubblici, ci sono circa 34 miliardi di investimenti pubblici. Quindi a bilancio 2017, il paese dietro di noi, no? Quanto vale in meno rispetto al pre-crisi? 20 miliardi in meno di investimenti pubblici. Quindi voi capite benissimo prima di tutto che se i numeri che vi ho dato, se mancano 50 miliardi in prezzi correnti di investimenti totali, se anche noi oggi portassimo gli investimenti pubblici al livello a cui erano in pre-crisi, cioè gli aumentassimo di 20 miliardi, avresti comunque un buon 30 ai rotti miliardi di deficit da mutare, no? Quindi il problema che tu hai in questo momento, il problema primo di politica economica che tu hai è com'è che fai a ripristinare, a dare una prospettiva tale per cui riesci a sprigionare quel 30 miliardi di investimenti pubblici, cioè convincere le persone a fare una cosa un po' brutale, cioè convincere le persone a investire, a mettere soldi sul nostro paese, ma non oggi, a metterli oggi perché ci rimangano per anni a venire, questo è il concetto di investimenti, compri qualcosa oggi per un beneficio che arriverà domani, cioè quindi stai chiedendo alle persone non di uscire con te a cena quando tu chiedi un investimento, tu stai chiedendo un finanziamento con la prospettiva del matrimonio, quindi sapete, quando tu inviti una cena magari non accetta, adesso quando invece chiedi qualcosa di più impegnoso, devi stare più attento, devi offrire una prospettiva in più. Cosa troviamo in questa legge di bilancio? Grande piano di trasferimenti per mandare la gente un po' prima in pensione, grande piano per alleviare un problema molto importante al nostro paese, la povertà è crescita moltissimo nella crisi, allivare nel senso trasferimento monetario, tutto questo parla a chi deve impegnare il proprio futuro oggi investendo? Poco, pochino. Allora tu pensi, ok, quanto è finanziato uno degli argomenti che viene avanzato? Va bene, ma c'è anche un potenziamento degli investimenti pubblici. E qui arriviamo all'ultimo punto, e qui scusate, devo brutalmente utilizzare la mia passata esperienza politica. Quello che la legge di bilancio stanzia sono 3,4 miliardi divisi tra 2 miliardi nell'amministrazione centrale e 1,8 miliardi di enti locali. Ascoltatemi un momento, perché veramente questa è una cosa che non ripeterò mai più, nemmeno sotto tortura. Quando tu vuoi far finta di spendere soldi senza spenderli e sei un ministro dell'economia, tu metti una posta di bilancio su investimenti pubblici. Perché? Perché sai perfettamente che c'è un livello di investimento pubblico che verrà realizzato facilmente. Tipicamente quello che ha a che fare con l'amministrazione centrale, cioè se io do soldi ai ministeri, i ministeri li spendono abbastanza velocemente. Ma quando comincio a parlare di soldi agli enti locali, comincio a parlare della seguente cosa. Posta di bilancio, bando per gli enti locali, applicazione, ricorso, allocazione. Se voi pensate che questi ultimi quattro passaggi siano eseguibili nell'arco di un anno fiscale, vi assicuro che non vivete in Italia. La controprova di questo è l'edilizia scolastica, che è stata recentemente un fantastico progetto di un governo progressivo di grande valore che ci ha preceduto, nel quale io non ho avuto nulla a che fare. Sto scherzando di te, sto scherzando. E se non scherzavo sulla parte di... Per una volta che volevo darti quasi ragione. E quello che è successo è che l'edilizia scolastica erano 300 milioni, non era grande cosa. L'edilizia scolastica, quei fondi per l'edilizia scolastica erano leggi di bilancio del 2016, avevamo i primi progetti operativi nel 2018, il che vuol dire che avremmo cominciato a farli, visto che come guardate voi il calendario è il novembre 2018, avevano cominciato a farli nel 2019. Vi ricordate? Sisma, i bambini in sicurezza, edilizia scolastica, 2016-2019. Non vi preoccupate, nel caso a vista dei dubbi, questo è stato un progetto di investimento che è stato bloccato dall'attuale governo per ripartire in un processo di allocazione attraverso un centro centralizzato di consulenza che si chiama, e questo lo trovo eccezionale, scusatemi, Investitalia. Attenzione, un centro di supporto, una struttura di missione all'interno della presidenza del Consiglio. Io vorrei avervi portato con me dentro la presidenza del Consiglio dei Ministri a vedere una struttura di missione, che sono 5 esseri umani come questi che siano in prima fila, che fanno del loro meglio, sono straordinari professionisti, cominciano a ricevere una marea di cose. Insomma, non butta benissimo, se veramente gli investimenti sono quello che ci preoccupa. Bene, grazie, diamo la parola a Michele. Ok, grazie, sì mi ricordo, grazie e anch'io ringrazio sia a Via Italia che la John Hopkins per l'invito e l'occasione. Allora, provo Filippo la portata, poi ci andremo sul vicino politico. Io vorrei portare un po' il dibattito indietro a una prospettiva più storica. Perché? Perché credo che in una situazione come questa abbiamo un vantaggio fondamentale sul tipico dibattito pubblico di politica economica e le cause della crisi italiana che avviene in televisione e in altri luoghi. Ed è, abbiamo tutti dei pc davanti, abbiamo un attimo di tempo, non ci parliamo sulla voce e quindi proviamo a guardare un po' i dati e i fatti e cercare di mettersi d'accordo sui dati e i fatti. Perché una cosa che avviene spesso nel dibattito pubblico è un piccoli giochetti di retorica e piccoli spostamenti di date, inventiamo un mondo che non c'è. Allora, se devo cercare di capire, prima di capire le operazioni di politica economica possibili che possano o non possano aiutare l'ammalato, vorrei decisamente capire la malattia. Siamo tutti d'accordo che c'è un problema di produttività? Boh, vabbè, fin là ci stiamo. Però non credo siamo d'accordo sulle cause di questa cosa, né quando inizi, né quando dati, fatti, o minimo anche solo di senso comune, senza sofisticati modelli economici, perché su quelli poi si rischi di litigare sull'equazione numero 3.2 variante X, quindi un po' di senso comune ci possano far sospettare da quando nasca la cosa. Allora, una maniera, credo che su questo siamo tutti d'accordo, di misurare la tendenza della produttività a livello aggregato è calcolare questa famosa TFP, che anche i non esperti ormai avranno imparato a nominare, un po' come E uguale MC al quadrato, che tutti sappiamo a memoria e nessuno sa cosa voglia dire. Ecco, la TFP è una misura che non vi sto a descrivere, però piuttosto accettata della nostra ignoranza nel capire la crescita, da un lato, ma è anche una buona misura di quanto l'utilizzo dei fattori produttivi grezzi, ore lavorate, soldi messi in macchine, capannoni e camion, viene dal sistema imprenditoriale, dai professionisti e anche dallo stato di un paese utilizzato efficientemente, dove efficientemente vuol dire usando le tecnologie più o meno migliori disponibili, ovviamente più o meno, nel senso che ogni paese ha le sue, poi ci sono caratteristiche settoriali e con ritmi, metodi che siano quelli più profittevoli o che riducono i costi per unità di prodotto. È una misura orrendamente aggregata, sia chiaro, però devo anche dire, dopo 35 anni almeno 40 di studio della cosa dai quattro angoli del mondo, che alla fine regge come punto di partenza. Allora qui da solo giro, spero riusciate a vederlo, vedete la TFP italiana dagli anni 50 a questo dato di Fred arriva purtroppo solo fino al 2014, non so se riuscite a vedere questo grafico. L'ottimismo è tuo, è incommovente. Ma a me è per il pubblico, poi c'è una camera, ho visto, funziona molto bene, secondo me se inquadra un po' qui si vede, ma guardate tanto non contro i dettagli, la vedete, questa è una curva che sale per un tot, qui siamo agli anni iniziali 50, poi raggiunge vicino al massimo, poi come vedete da un certo punto diventa piatta, oscilla, piattina, e poi tende ad andare giù, 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 giù. Ecco allora il quesito interessante è, dove è questo punto di massimo qui? Ecco questo punto di massimo è fra il 75 e l'80, ok? Voi ne potrei mostrare delle altre, senza far arrabbiare Filippo, ce ne sono delle altre, tutte le misure che abbiamo a disposizione dicono che a un certo punto, negli anni 80 mettiamola così, è sciocco, quelli che se ne escono con le date, questi vengono ma sono sempre ridere, chi se ne frega se è l'81, il 79 o l'84,3, è irrilevante, il 14 marzo 1985 si è fermata la politità italiana, no, il punto è che a un certo punto nel tempo, negli anni 80, le cose hanno cominciato a rallentare, andare fuori posto, gli investimenti ha cominciato a essere o inferiori o nel tipo di tecnologie erronee o arretrate, eccetera, 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 la politità si è appiattita e poi ha cominciato a crescere, come tutte le cose, prima è appiattissimo, noi che abbiamo una certa età, vedo con piacere il vecchio amico e collega Tito Pietro che non vedeva una vita, lo ringrazio per la presenza, grande economista, potrebbe aiutarci. Allora, punto numero uno, la vulgata, secondo cui le tuta colpa dell'euro è una stronzata, io parlo molto francese come chi mi conosce sai, quindi mi perdonarete se ogni tanto invece di utilizzare l'italiano o l'inglese che vanno di moda, utilizzerò un po' di francese, è una stronzata e va tolta dal dibattito pubblico con grande fermezza, perché? Perché induce discussioni sciocche, perdite di tempo e improbabili carriere politiche di Cialtroni. La crisi della priorità italiana comincia e si rivela nei dati ai tempi di Bettino Craxi, Spadolini, CAF, non ha nulla a che fare con le austerità, non ha nulla a che fare con l'euro, non ha nulla a che fare con le bagianate che vengono regolarmente ripetute sui media nazionali oramai di regime. Sfido chiunque a provarmi i contratti, è una sfida che noi sull'America abbiamo messo sul tavolo 13 anni fa quando abbiamo iniziato dicendo signori il problema è qua, era il 2006 e sta roba dura da 20 anni, svegliatevi, ne sono passati 13, 12 e mezzo ed è ancora lì. Quindi il punto 1 è che è una storia vecchia, quindi se vogliamo interrogarci da dove viene cominciamo a pensare cosa sia successo tra la seconda metà degli anni 70 più o meno e la fine degli anni 80, se vogliamo capire la bestia. Adesso Filippo non ti arrabbiare, Filippo giustamente ha menzionato gli investimenti e ha ragione, gli investimenti sono uno degli strumenti che ti fanno crescere, ci sono due tipi di investimenti, come ci ha insegnato Schumpeter, c'è quello che ripete, fa copie di ciò che già esiste e il buon Joseph 110 anni fa l'aveva capito, si può crescere, un po' come crescono le economie contadine che hai 12 vacche ne aggiungi una, hai 3 porcelli ne aggiungi mezzo, lentamente allo 0,01 all'anno cresci. Se vuoi crescere ai ritmi al tempo suo sembravano altissimi, dell'1-1,5% o quelli che siamo abituati noi magicamente del 2-3%, hai bisogno non di fare gli investimenti di ieri, hai bisogno di farli nuovi e qui la storia dell'innovazione che per un paese come il nostro sia chiaro, la Cina del Mediterraneo è da smesso di essere la Cina per diventare l'Argentina giusto a fine anni 70, inizio anni 80, questa in sintesi è la mia analisi, eravamo la Cina del Mediterraneo, siamo diventati l'Argentina del Mediterraneo. Allora per paesi come il nostro l'innovazione consiste fondamentalmente all'80%, 90, copiare gli altri che sono alla frontiera e cercare di farlo bene magari dandogli un twist, che so, facendo la Lambretta o la Vespa o la 500 invece della Model T. Ha ragione Filippo, gli investimenti sono andati, ma non sono andati l'altro giorno, di nuovo. Qui li vedete, posso almeno tenerlo io? No, tienilo, grazie, vi li vedete. Vedete questa cosa, i vederci sono belliati, ci sono gli anni 50, 60, 70, poi vedete che vanno giù, sono praticamente lì, al torno ai numeri che diceva lui, che sono giusti, in media ciclo su ciclo giù, dal dall'80 di nuovo, guarda caso, 75, 80, ok? Altro indicatore che il problema evidentemente viene da lì. Come sono col tempo? Perché io mi fermo qui? Presidentessa? No, l'hai così annoiata che sei distratta. No, no, hai ancora ampio... Allora, no, approfitto nato, sì, lo so. Allora, cosa voglio dire con questo? Voglio dire che se vogliamo fare una riflessione è meglio che sgombriamo il campo da queste cose. l'austerità che non c'è, i calcoli dell'austerità fatti a bilancio primario scordandoci gli interessi, a me piacerebbe tantissimo fare il bilancio di casa mia, ho ancora un mutuo su una casa piuttosto larghetta che acquisì in quel di San Luis e dire che c'è gli interessi sul mutuo, mica contano, la casa, la casa mai c'è, perché diavolo devo pagare gli interessi sul fatto che quell'altro mi ha prestato X per centomila, no? Insomma, l'austerità non solo non c'è, se voi fate l'integrale della spesa pubblica italiana e dei suoi deficit nel tempo e lo confrontate con quello di qualsiasi paese europeo, scoprite che noi stiamo in testa, forse ci batte la Grecia, anzi senza forse, lo sappiamo che ci batte, però con la Grecia è più complicato perché gli è crollato il denominatore, quindi se fate l'integrale dei valori assoluti per capita, controllando per la popolazione l'impressione che vinciamo. Quindi direi che si tratta di togliere quella finta causa dal campo, non solo perché non c'entra nulla con l'arco temporale, ma perché proprio non esiste, non è mai esistita e questo dovrebbe essere ovvio perché non è cresciuto solo il rapporto debito PIL in Italia negli ultimi 10, 15, 20 anni. È cresciuto il debito, il totale del debito, e vi spiego un trucco, il totale del debito cresce se e solo se si continua a fare debito addizionale. Magia, la magia dell'aritmetica e delle sommatorie è fantastica a volte, rivela delle verità che evidentemente al giornalismo professionista di grandi economisti televisivi sfugge, però è così, se continuo a sommare numeri positivi il totale cresce, mannaggia. Quindi togliamo di mezzo questa cosa e proviamo a interrogarci sulla realtà dei cambiamenti strutturali, politici, comportamentali, regolamentari del paese chiamato Italia, dagli anni, dalla fine anni 70 in avanti, perché secondo me è lì che occorre fare la riflessione, che è la ragione per cui la riflessione non si ama farlo, perché è difficile, perché è più complicata, perché chiama in causa responsabilità un po' di tutti. È troppo facile fare il giochetto, e non me ne vorrà Filippo, di puntare il dito a questo e quello, ma quando io dico, e l'ho detto in pubblico negli ultimi mesi, lo evadisco anche oggi, che non c'è in realtà differenza qualitativa fra le follie di pseudo politica economica del governo rosso-brunato, quello attuale che è rosso e brunato, le camicie brunate, e quello precedente che era Rosé. La differenza è quantitativa, ma dal punto di vista qualitativo siamo alle stesse politiche economiche, oserei dire la stessa narrativa di pugni a Bruxelles, le austerità, noi ci permettiamo di spendere, ce ne freghiamo, non prendiamo ordini da questo e quello, non è solo quel pagliaccio di Salvini a dirlo per primo, hanno detto altri prima di lui. E via elencando, se voi guardate alla qualità della politica e al discorso su cui viene costruito, che viene spiegato agli italiani, non è cambiato, è cambiata l'intensità e sia chiaro, da Bonex e Engheliano i cambiamenti quantitativi a volte diventano qualitativi, è possibile che esagerando sempre sullo stesso tasto si faccia un cambiamento qualitativo, però cerchiamo di essere realisti, di non inventarci regolarmente a ogni cambio di governo, a ogni svolta ciclica, a ogni riorientamento, che tutto viene da questo ultimo, perché come anche giustamente ci ha spiegato Filippo e concordo, un'altra delle riflessioni che vanno fatte da quelli che cercano continuamente magici moltiplicatori, la spesa pubblica, specialmente quella per investimenti, alla natura che ha descritto Filippo, e Filippo ha descritto addirittura dei processi rapidi, perché questo italiani è molto rapido, se dovessimo provare a calcolare la stesso ritardo nella media della spesa pubblica anche per investimenti in Italia troveremo numeri ben superiori a 3 anni, troveremo 5, troveremo 6 e mezzo, troviamo numeri di questo tipo qui, facendo le medie. Quindi quelli che cercano scioccamente reazioni istantanee un trimestre dopo, fra variazioni della spesa tra l'altro nemmeno a consuntivo ma non mi viene la parola in italiano, grazie, nel PIL del trimestre seguente, sono dei pagliacci a cui va detto guardi lei è un pagliaccio, non sa di cosa parla stia zitto, no ma uno vale uno, no, bisogna avere il coraggio di liberare, se vogliamo salvare il paese, bisogna avere il coraggio, proprio il coraggio e anche l'onestà morale intellettuale di dire ai pagliacci stai zitto, sei un pagliaccio, stai mentendo, stai cercando di costruire un discorso, un'analisi della storia d'Italia che è falsa e io mi rifiuto di accettarla perché è falsa, i numeri vanno sbattuti sul naso quotidianamente a costruire. Se non si parte da qua, noi possiamo discutere sugli 80 euro, sull'autorizzazione all'evasione fiscale che contiene l'ultimo DEF quanto vogliamo, non ne usciamo, non ne usciamo, dobbiamo mettere in discussione 40 anni di approccio alla politica economica italiana. Il tuo tempo è scusato, Matteo, vi do subito la parola perché abbiamo deciso di cambiare l'ordine, quindi la domanda è una domanda ovvia che è un po' il cuore del dibattito di oggi e che c'è stata, soprattutto da Filippo Taddei, è stata già in parte affrontata ma sono sicura che avrà altro da dirci anche dalle segrete istanti in cui è stato recentemente. Comunque la domanda è quindi questo DEF, come lo vedete, come lo valutate, in particolare come valutate quelli che sono o avrebbero dovuto essere i tre pilastri, ovvero il reddito di cittadinanza, la flat tax e la riforma della riforma Fornero sulle pensioni, in relazione anche come le valutate a quelle che erano le promesse elettorali sia dei partiti presi uno per uno fino al contratto, quindi ricostruire un po' quella che è stata la storia recente anche dal punto di vista della commissione tra politica e economia. E cosa voi avreste fatto alla luce dell'analisi che avete illustrato su quelle che erano le radici della situazione attuale dell'Italia e anche gli ultimi aspetti più congiunturali? Quindi, come d'accordo, se vi va bene, cominciamo adesso da Michele Boldrin e vi do sempre una decina di minuti, in modo da avere un po' di tempo poi per delle altre domande. Ok, allora, telegraficamente, cosa avrei fatto? Comincio da qua. Ma avrei fatto, avrei cominciato a fare alcune delle cose che con tanti amici e colleghi ci inventammo anni fa e abbiamo avuto occasione di proporre svariate volte, perché mi sembrano sempre le stesse. Avrei cominciato con riformare il sistema pensionistico togliendo l'età di pensionamento minima massima e introducendo un criterio attuariale banale. Vuoi andare in pensione quando vuoi? Ti calcoliamo la vita attesa per il tuo gruppo tipico, non individuale, perché non si può calcolare. Ok? E in base al capitale che hai accumulato con il contributivo fino ad oggi, questo è il capitale, se vuoi stare in pensione, vai in pensione adesso ai 60 anni, l'età mia, 62 anni, credo che la mia vita attesa sia dati, parametri, i miei fisiologici, età, razza, 28, una roba del genere, dispalmeremo questo tuo capitale accumulato sui 28. Fine. Questa mi sembra la riforma pensionistica da fare, assieme a quella di cui si è discusso e occorre, mio padre era il 91, quindi sono ancora sotto media in famiglia. E niente, basta, l'altra è fare questa cosa cercando di garantirsi che non cadiamo regolarmente, ma credo che la Corte Costituzionale stessa, adesso non mi ricordo più la sentenza, non mi ricordo che molto chiaramente spiegava, i vari attacchi, io non sono una grande simpatia per i giudici costituzionalisti italiani, ma in quell'occasione, devo dire che sono stati molto franchi, hanno detto guardate, credo fosse un provvedimento, meglio non sarà un provvedimento, Tremonti o altro, forse non puoi aiutare, una cosa di qualche anno fa, ma insomma era molto chiaro, volete farlo? Si fa così, non fate queste cose che tagliate un pezzettino uno, un mezzettino, l'altro perché ovviamente violate banali principi costituzionali, se lo fate erga omnes per davvero c'è una maniera di farlo, poi lo potete modulare se volete punire alcuni gruppi più che altri, perché ritenete che alcuni gruppi siano stati ingiustamente privilegiati, lo potete fare, ma c'è una cosa banalissima delle civiltà liberal democratiche, le leggi si fanno possibilmente in modo anonimo, cioè che definiscono tipologie di esseri umani e non a mio frammico Tito Pietra, e colpisco solo lui, se devo farlo lo faccio in privato, allora questa mi sembra la prima cosa da fare in questo paese, purtroppo questo DEF fa esattamente l'opposto, ma non è che mi sorprenda, fa cose che sono nell'aria da tempo, tutte le altre cose da fare sono tutte cose che richiedono anni e andrebbero annunciate credibilmente, andrebbero costruiti meccanismi di credibilità nel commitment e vi posso garantire che sono le cose, e su questo possiamo discutere perché l'esperienza storica non solo teorica, su questo argomento è assolutamente overwhelming, dominante, che poi ti fanno ripartire gli investimenti, la fiducia, gli investitori, quelli da fuori che sono disposti a arrivare qua. Dovresti cominciare a dire sì, voglio cominciare a spendere nella scuola progressivamente, non solo nel piano di edilizia, ma anche cominciando a riformare i meccanismi di reclutamento, voglio trasformare all'arco di un quinquennio, un settennio, probabilmente un'università italiana, facendolo assomigliare al sistema universitario, lo dico brutalmente per stare dentro ai dieci minuti, della California, per dare un esempio banale, in che è un sistema fondamentalmente pubblico, con un po' di roba privata, ma fondamentalmente pubblico, con finanziamenti pubblici e sostanziali, con una certa meritocrazia nella concessione di borse di studio, eccetera, eccetera, ma che accetta il fatto che non tutti possono essere Berkeley o UCLA, alcuni devono essere Cal State Long Beach, che è un'università che vorremmo averne in Italia, probabilmente migliore del 94% delle nostre, ma non è Berkeley e UCLA, ha criteri diversi, paga diversamente, la gente lavora diversamente e l'allocazione del personale avviene così. Credo che questo darebbe una botta di credibilità al paese gigantesca e renderebbe più raro andare a passeggio per Shanghai, come è successo 15 giorni fa, uscendo in un ristorante con un gruppo di collegi cinesi e venire fermato da immigrati 35 anni italiani scappati dal paese perché qua c'è un lavoro e riesco a utilizzare la mia specializzazione. Avrei fatto questo qua. Sul debito di cui tutti discutono, io ho notoriamente una posizione strana sul debito, forse per causa di, questa è una battuta per economisti, deve essere stato per un po' di tempo allievo di Robert Barro. Io non sono ossessionato dal debito, ieri ne discutevo con Carlo Cottarelli per l'ennesima volta, ormai siamo diventati una fixture, Carlo ha il classico approccio IMF che esagera, sono troppo convinti da quel libro un po' troppo popolare di Ken Rogoff e Carmen Reinhardt. Il debito è quella cosa che ormai l'hai fatta, te lo devi gestire, non è che lo devi ripagare, devi rendere credibile il fatto che lo servirai, non mi stancherò mai di ripeto, i debiti pubblici non si ripagano, nel senso di restituirli e portarli a zero. I debiti pubblici per carità, in fase di espansione dovresti cercare di farli calare per avere spazio per poi farne invece di debito quando ne hai bisogno, ma al di là di quello che sono oscillazioni cicliche attorno a dei livelli poi acquisiti, i debiti pubblici si servono e si rendono credibili, garantibili e solidi con politiche fiscali di lungo periodo che tali siano. Le critiche che tutti continuano a fare, sciocche ai tedeschi che adesso hanno il surplus di bilancio pubblico, sono sciocche oltre a che in cattiva fede, perché i tedeschi stanno facendo i chinesiani, veri, non gli straccioni, i chinesiani veri. Cioè andate a leggervi i chinesiani veri alla solo Modigliani, Samuelson, 1960, dice che la politica fiscale deve essere counter cyclical. Counter cyclical vuol dire che quando cresce il PIL fai surplus, ma non senza interessi, all included, cioè risparmio, metti via qualcosa, poi puoi decidere se metti via lo 0,1% del PIL o l'1 o il 3, ok? Metti via perché? Perché invece quando hai recessione vera, di botta, vai in spesa, ma non vai in spesa promettendo i ponti fra 4 anni, vai in spesa pagando sussidi di disoccupazione, vai in spesa, nel caso negli Stati Uniti noi se avessimo un sistema federale faremo lo stesso, sussidiando la spesa corrente delle Stati, nel nostro caso regione, ai quali imposto vincolo di bilancio. Questa è la politica classica chinesiana che, non voglio neanche mettermi a discutere se davvero ha funzionato miracolosamente o non ha funzionato, certo non ha fatto danni e probabilmente un po' aiutato negli anni 50, 60, inizio anni 70, ok? Quindi questa ipocrisia dei tedeschi cattivi è una di nuovo francese, stronze, è una francese venezianizzata questa. Quindi questo avrei fatto, queste cose qua, l'elenco è lungo ovviamente, ma sulla scuola e l'università secondo me è fondamentale, assolutamente fondamentale. Avrei anche promesso che magari le agenzie regolazioni italiane smetto di trattarle come degli strumenti del potere politico e pagliacciate, mi sarei compromesso a mettere in consob, sì, la scelta personale di Nava di non volersi dimettere non è stata una grande idea, ma non metterei un galloppino di partito che scrive cose false sullo spread dalla mattina alla sera, che per di più è pure dipendente dal consob, metterei un signore, ce n'è, ce n'è, di cittadinanza italiana, se proprio abbiamo bisogno di cittadinanza italiana, di cittadinanza italiana, niente ci vieta, mettere un francese, uno spagnolo, è un signore degno, capace, una signora degna, capace e di specchiata indipendenza, a fare quel lavoro lì, che ce n'è bisogno. Ecco queste cose farei. Cosa hanno fatto? Ma ieri ai ragazzi di Cafosco, con cui mi sono incontrato, dicevo guardate, fate a pensare alla questione debito, no? E cioè questo DEF cosa fa? Qual è l'argomento che vedo arrivare dai vari signori governativi? Diciamo ma dobbiamo prendere a prestito per rilanciare l'economia e i consumi. Lasciamo stare il fatto che, anche ieri l'ho mostrato, questa cosa dei consumi che sono calati è un'altra bugia, non è vero, devo dire fare un altro dato. I consumi in realtà sono cresciuti in percentuale del PIL, sia quelli pubblici che quelli privati in Italia, questa compressione dei consumi è un'altra balla inventata dal giornalista di turno e ripetuta da tutti come anatre. Ma comunque se il problema è far consumare qualcuno andando a debito, perché alla fine strucca strucca la nostra idea, prepensionamente, perché tali sono, condoni fiscali, pseudo reito di cittadinanza e altri sussidi vari, hanno alla radice una cosa semplice, vado sul mercato dei capitali, da qualcuno che ha liquidità, che ha un po' di risparmio, se è su italiano o straniero o non importa, mi indebito, il famoso 2,4 che scoprirete, ci rivediamo qua fra un anno, io butto un numero, sarà 3,4, sarà molto più vicino al 3,4 che ha il 2,4, ok? Mi indebito per alcune decine di miliardi e queste risorse che ricevo le do a queste persone in modo che le spendano in loro consumi. Quella è una maniera, poi c'è un'altra maniera di fare la stessa operazione, e cioè lasciare che qualcuno vada a indebitarsi, magari per allargare un'azienda, magari per strutturare un capannone in più, magari nuovo, o cominciare un'azienda nuova, completamente nuova e lo faccia a debito. Perché il capitale iniziale lo fai a debito, quindi ti indebiti, ok? Con le stesse persone di fatto, con strumenti non uguali, perché non essendo tu il ministro del tesoro non puoi ammettere botte, cct e cose del genere, devi ammettere obbligazioni tue, fiduzioni bancarie, svariati strumenti con cui ti indebiti. Con queste cose in realtà cos'è che fai? Consumi in un certo senso. Pensate a un'azienda che comincia, o che in realtà consuma slash investe. In parte consuma perché paga dipendenti, ingegneri, operai, quello che volete voi, conduttoria, perché mangino, ricevono uno stipendio, consumino, finché cominciano a produrre, organizzano una cosa, il prodotto fino a un certo punto arriverà, si comincerà a vendere. Quindi consumi a credito, esattamente la stessa cosa. Parte ovviamente di questo credito, invece si trasformerà in impianti, macchine, automobili, furgoncini, che so, uffici a Basilea o dove tocchi per vendere questo e quello. Alla fine però di questa operazione di consumo, mentre nel secondo caso il consumo c'è stato ed è finito, alla fine di quest'altra c'è qualcosa, non solo c'è un prodotto finito che arriva sul mercato e si vende e che se l'hai fatto decentemente ripaga e compensa il debito acquisito, ma lascia qualcosa. E ho usato l'immagine uno scalino, lascia uno scalino su cui puoi mettere i piedi per andare sulla prossima volta, perché ti lascia un impianto, un capannone, tre officine, non lo so, 12 persone che hanno imparato un lavoro e lo sanno fare leggermente meglio di ieri. Ecco, questo secondo me è la differenza. Per chi è tecnico questa roba la chiamano crowding out, se adesso qualcuno può spiegarmi che il crowding out non esiste, io potrei anche seguirlo, ho già menzionato che sono un allievo di Robert Barro e sono sempre molto diviso nel guardare i dati fra crowding out e cardian equivalents, ma questa è cosa per tecnici. Dal punto di vista politico questa è la grande differenza, questo è quello che avrei fatto, avrei cercato di costruire opzioni per la seconda maniera di utilizzare quel 2,4 che sarà 3,4 di credito e non quella che invece è stata scelta, che è puro accattonaggio. Anzi, Michele, mi sono scritto a 3,4, si accettano altre scommesse e tra un anno le verifichiamo. Quindi diamo la parola adesso ancora a Filippo, tra me. Dunque, per valutare i tre tratti definitori di questa legge di bilancio, cioè flat tax, riforma della Fornero e reddito di cittadinanza, vi devo spiegare perché sono una riedizione di, perché appunto qui sono drammaticamente d'accordo con Michele, spero che non sia un problema, è un problema di quantità, quando tu cambi la montare di buone idee, le puoi rendere cattive idee. La flat tax, ovviamente non è la flat tax, la flat tax è semplicemente un'estensione di quello che tecnicamente è il regime forfettario dei minimi. Vi ricordate che tanto tempo fa, cioè qualche anno fa, governo Tremonti all'inizio, questa idea del fatto che ci sono dei lavoratori indipendenti, che sono deboli, perché guadagnano poco, e che andavano sostenuti, allora gli davi un regime speciale di tassazione. Questa idea è rimasta fondamentalmente nel dibattito pubblico e pian pianino è stata ripresa, aumentata è cambiata, fino a rimanere anche nell'ultima scelta di governo, dove quel regime forfettario è stato introdotto con l'idea di sostenere, guardate bene questa cosa in pratica, sostenere lavoratori indipendenti, cioè il popolo delle partite IVA si direbbe in alcuni contesti, a pagare un livello di tassazione inferiore. Che cosa vuol dire? In pratica si è detto, bene se tu hai ricavi tra i 30.000 euro all'anno, ricavi non reddito imponibile e 50.000 euro a seconda del settore in cui sei, noi ti daremo una tassazione agevolata, perché? Perché ti riteniamo debole, un lavoratore che fa fatica a mantenersi, quindi debole, ti diamo uno strumento di sostegno, con lo stesso tipo di implicazione per cui, non so, tu dai una detrazione sul reddito del lavoro dipendente e dici, guardi, sulla prima tranche, sui primi 8.000 euro noi non ti tassiamo, perché sei debole, ti sospendiamo la tassazione. È lo stesso principio trasformato e applicato al lavoro autonomo. Questo del regime forfettario in cui tu dici, è semplicemente quello, adesso è stato, gli è stato cambiato il nome ed è diventata la flat tax, ma è lo stesso tipo di principio. Siamo passati da 30-50.000 euro a 65.000 euro di ricavi, sono cambiate al margine alcune cose che hanno a che fare con quello che tu puoi scorporare, considerare per essere, per competere o meno, e ti dico, su questo io ti pago il 15%, anzi, tu devi pagarmi il 15% di tasse. Questa è la flat tax, è un'estensione del regime forfettario, ok? Solamente che, capite che cambi, estendendo la politica, ne cambia anche la natura, perché se io vi faccio un regime forfettario perché guadagna fino a 12 milioni di euro, no? È la stessa cosa, è la stessa cosa che c'era prima, eh? Se non che adesso la applichiamo a una platea di contribuenti molto diverse, in condizioni molto diverse, e quindi quello che era uno strumento nato per difendere partite IVA deboli, tipicamente all'inizio della propria carriera o in, diventa adesso uno strumento di massiva distribuzione fiscale. Ovviamente questa flat tax non è l'una o l'altra cosa, è semplicemente un giochino di aggiustamento al margine per fare un bricio di propaganda, infatti conta pochissimo. Se voi guardate il costo, il costo di questa legge di bilancio, costa poco più di un miliardo, cioè niente, capite? È una cosa per cui se io fossi un partner di governo che prenda maggior parte dei propri voti nel nord Italia, sarei in imbarazzo anche solo a parlarne, tanto che hanno dovuto immediatamente rilanciare, hanno detto, vabbè quest'anno è così, voi non vi preoccupate, dal 2020 sarà fino al 100 mila, però con l'aliquota al 20%, secondo me lo fanno anche perché chi ci sarà poi nel 2020 poi lo andiamo a vedere, ma questo è un altro discorso. Quindi la flat tax non è altro che l'edizione, sotto altra forma, di un principio, se volete anche giusto, però totalmente snaturato dal cambiamento della politica. Il cambiamento della Fornero, guardate, io secondo me lì Michele, e qui il mio linee di dissenso con Michele, per fare quello che propone Michele, cioè il fatto che è un po' contributivo che vale dalla mia generazione in giù, quindi quelli che hanno meno di 45 anni, che siamo in contributivo pieno, possiamo andare in pensione, grosso modo quanto ci pare, a meno che, con una condizione fondamentale però, il nostro, la pensione attesa che noi andiamo a ricevere deve essere superiore a una volta e mezzo il trattamento di pensione minima, questa è l'unica regola che c'è, però per chi è in contributivo questo vale? Quello che Michele vi suggeriva prima è, facciamolo subito, facciamolo non solamente per quelli che sono relativamente più giovani, cioè dai 50 anni in giù, per essere precisi, ma facciamolo per tutti. Questo, paradossalmente, garantisce l'equità intergenerazionale, però ti crea un problema, e questo lo rende da un punto di vista proprio concreto, di un'applicazione non banale, ti crea un problema di esborso aggiuntivo corrente, che in italiano vuol dire di crea spesa aggiuntiva oggi, che non è una cosa di cui abbiamo bisogno, per cui io vi dico, fratelli e sorelle, teniamo la fornero, sacra e salda, perché almeno ha un principio di equità intergenerazionale fondamentale, che è, siamo uno dei pochi sistemi che ha l'allacciamento dell'età di pensionamento all'aspettativa di vita, automatico, io questa cosa la sottolineo sempre, noi siamo automatici, in America vale, ma ci vuole una decisione del congresso, non so se è chiaro, ed è una decisione molto impopolare, molto difficile, non a caso non l'abbiamo fatta in un momento di collasso del paese o di presunto tale. questo per dire, però c'è un problema fondamentale di questa scelta di allentamento della fornero, la quota 100, cioè dire a un 62enne con 38 anni di contribuzione che può andare in pensione, ora guardate io ce n'ho uno di questi che lavora al bar qui da noi e tutti i giorni me lo dice, ce lo vivo sulla mia pelle, se c'è una cosa, io non ho fatto un giorno della mia attività politica senza passare in transatlantico ad avere un parlamentare di un qualunque gruppo politico che mi si avvicinava e gli diceva, eh però la fornero, eh, andrebbe cambiata. Quindi lo capisco la persona, capisco quanto è forte la persona politica per la fornero, però bisogna resistere, bisogna resistere sulla base di un semplice principio. Se tu allenti la fornero per una generazione, cioè se tu dici a chi può andare in pensione nel 2019, che ci può andare in pensione con 62 anni di anzianità e 38 anni di contributi, che vuol dire che ha cominciato a lavorare a 24 anni, ok? Questo ha fatto almeno, forse prima con qualche buco, ma ha cominciato da 24 anni avanti, se tu vuoi dire questa cosa devi almeno avere il coraggio di dire che deve valere per tutti gli altri, deve valere per quelli che vanno in pensione nel 2020, 21, 22 e anche per quelli come sottoscritto che vanno in pensione nel 2045. Ma siccome questo non lo puoi dire, perché sappiamo tutti che non lo puoi dire con la dinamica demografica di questo paese, allora non lo puoi fare, non lo puoi fare sullo basso di un semplice principio di equità tra le generazioni. Se vale per una generazione, allora vale per tutti e se non può valere per tutte le generazioni, non lo puoi fare nemmeno per una. Questa è la cosa che io sono allibito, che non venga ripetuta ossessivamente, è semplice, è solo una roba di equità, se tratti le persone in condizioni uguali, in maniera diversa, è un'ingiustizia e se stai facendo questo, stai facendo un'ingiustizia, bella e semplice. Reddito di cittadinanza. Perché il reddito di cittadinanza ci farà perdere un sacco di tempo? Non perché la povertà non sia un problema, la povertà in questo paese è un problema gigantesco, ci sono grandi distribuzioni. Ora, noi ci abbiamo messo, a proposito del ritardo di scelta di questo paese, noi ci abbiamo messo reddito economico di inclusione, il cosiddetto REI, è una legge dello Stato del 2016, ci abbiamo messo tutto il 2017 per implementarlo e comincia a essere effettivo nel 2018. E sapete qual è la cosa difficile? La cosa difficile era fare i decreti attuativi che indicano quali sono la platea esigibile, cioè la platea di persone che possono ricevere quel contributo. Ci metti una marea di tempo a mettere in campo quell'infrastruttura. Collegare quell'infrastruttura alle agenzie, agenzie, ai centri per l'impiego o alle agenzie del lavoro. Guardate che questa è una cosa che può sembrare banale, ma è difficilissima, perché quando tu la devi fare non devi mettere d'accordo con un'agenzia come sarebbe normale in un paese normale, ma per un, beh, in conseguenza anche di un, una delle conseguenze di un referendum costituzionale che è stato, che è andato in un certo modo, a cui Michele teneva molto, ma adesso non torniamo, abbiamo questo fatto che qualunque cambiamento tu vuoi fare devi coordinarlo con 21 agenzie del lavoro, e dico 21 perché naturalmente Trento e Bolzano hanno due agenzie diverse, per non farsi mancare nulla. Il che vuol dire che ci metti una marea di tempo a farlo. Se io oggi vi dico, la cosa facile da fare, se tu vuoi fare reddito di cittadinanza, si fa così, si fa, utilizziamo il REI, aumentiamo la platea di persone, metterloci più soldi, e ci metti, puoi fare quello che vuoi, puoi modulare la platea, puoi includere più persone, puoi aumentare il beneficio, è tutta una questione di soldi, come direbbe mia nonna, è tutta una roba di denaro, solo denaro. Parliamo di questo, vogliamo mettere del denaro per la lotta alla povertà, parliamo di aggiungere denaro al REI. Se adesso vogliamo perdere del tempo a chiudere il REI, come c'è nella legge di bilancio, aprire il reddito di cittadinanza per fare la stessa cosa identica del REI, cioè fare un, non è un reddito di cittadinanza perché è means tested, cioè si basa sulla condizione effettiva, economica effettiva delle persone, è condizionale, cioè per ricevere quel contributo tu devi aderire a dei programmi di formazione, di attivazione legati al centro per l'impiego, cioè esattamente come il REI, è identico al REI. Se devi fare una roba identica al REI, fai il REI, potenzia il REI, metti dei soldi, perdi meno tempo, lo fai in maniera più efficace e magari riusciamo anche ad essere un po' più precisi, perché se no dobbiamo discutere della seguente cosa, tra le altre. Nel REI, come tutti gli strumenti condizionali di sostegno, prevede il fatto che, di sostegno e di contrasto alla povertà, prevede che tu possa rinunciare, rifiutare un'offerta di lavoro ma non due. Adesso le offerte di lavoro sono diventate tre, cioè puoi rinunciare a due, la terza la devi prendere. Offerta di lavoro congrue, no? Vedi, c'è un piccolo problema in fare questo. Io vorrei che voi incontraste questi beneficiari. Sono persone che vivono a immargini della società. A parte i casi, voglio dire, plateali di abuso, cioè di gente che sono evasori, totali, che riescono a fare dei giochini, ma sono veramente una minoranza. La maggior parte di queste persone sono persone che funzionano, che hanno avuto la seguente vita, che hanno nulla a che fare con questa platea, che noi non vediamo mai nella nostra vita. Sono gente che vive in pezzi marginali della città, lavorano da 15 anni facendo dei lavori minimi, prendendo dei 300-400 euro in nero per assistere qualcuno ai margini del mercato del lavoro. A uno così o a una così? Veramente, veramente, noi pensiamo che gli arrivi un'offerta di lavoro? Lo pensiamo, cioè lo pensiamo senza pensare che prima ci sia da fare un'operazione semplicemente gigantesca su quello che è la struttura di sostegno, di formazione, tutto quell'investimento, tutte cose che qui non ci sono. Ma non ci sono. Non ci sono in questa legge di bilancio, non ci sono nel programma di organizzazione. E per inciso, quando il governo adesso vi dice che riorganizza i Rai centri per l'impiego, dovete sapere tutti una cosa molto semplice. Se anche il governo domani volesse, volesse fare, non so, il minimo sindacale che è uniformare la banca dati delle offerte di lavoro, tra il centro per l'impiego di Bologna, di Modena, scusate, di Mantua, province confinanti, territori non proprio distantissimi economicamente, non lo può fare. Se volesse imporre questa uniformazione, non lo potrebbe fare, anzi sarebbe incostituzionale. Quindi il problema è un po' più grande ed è troppo grande per perdere altro tempo, ridefinendo lo strumento ancora una volta, cambiandogli il nome per ottenere lo stesso scopo, almeno a parole. Passiamo la stessa domanda da Andrea Roventini, avevo parlato una più difficile perché è stato un mio studente a Modena, ma poi mi sono ammansita. Quindi è la stessa domanda identica. La domanda è cosa mi piace di questa legge di bilancio, cosa non mi piace e cosa avrei fatto? Beh allora diciamo in questa legge di bilancio ci sono delle cose che chiaramente non mi piacciono, sono molto contento che almeno leggendo i giornali di stamattina sembra che il condono fiscale non sia più presente, spero che non ritorni in nessuna forma. Un'altra parte di questa legge di bilancio che non mi piace assolutamente è la flat tax, che poi non è flat tax, non si capisce perché ormai viene chiamato tutto flat tax quello che non è flat tax, ma è semplicemente come diceva prima anche un allargamento del regime forfettario. Per fortuna anche su questo sono state messe veramente poche risorse ed è un provvedimento che potrebbe anche creare degli abusi perché è ovvio che se si aumenta di smisura il regime forfettario ci sono degli incentivi a trasformare dei lavoratori dipendenti in lavoratori autonomi, quindi non vorrei vedere questi tipi di abusi. L'altra cosa che non mi piace è la quota 100 e in particolare come viene fatta adesso, cioè la quota 100 per tutti, perché mi sembra una misura che costerà e non costa solo quest'anno ma avrà un costo per tutti gli anni futuri, è una misura che allo stesso tempo non rilancia la crescita perché penso che su questo siamo tutti d'accordo, non c'è un rapporto 1-1 fra chi se ne va in pensione e le assunzioni delle imprese, se si voleva correggere la riforma Fornero e si poteva farlo, si poteva farlo al margine ad un costo molto esiguo tutelando le categorie più deboli, sto pensando ad esempio a potenziare, a dare maggiore flessibilità a chi svolge lavori usuranti o chi svolge lavori gravosi e via dicendo, questo avrebbe aumentato l'equità senza gravare sui conti pubblici. Il reddito di cittadinanza è una parte della manovra che a me personalmente piace, nel senso che è una misura di contrasto della povertà, all'Italia mancava in Europa una misura di contrasto della povertà, il governo precedente ha introdotto il REI, secondo me è stata un'ottima riforma, un'ottima politica introdotta dal governo precedente, il REI purtroppo è stato sottofinanziato perché viene data una cifra esigua, quindi a questo punto se vogliamo contrastare la povertà, di nuovo per una questione di equità, c'è da vedere come farlo e qui il dibattito, secondo me è un dibattito aperto, che è ancora aperto, cioè se potenziare il REI, come fare il reddito di cittadinanza e via dicendo. Secondo me collegato al REI ci dovrebbe essere, o al reddito di cittadinanza, ci dovrebbe essere sicuramente un'attività di formazione, perché sono d'accordo con Filippo, spesso queste persone che ricevono il REI, io ad esempio le ho viste, magari non in Italia, ma le ho viste ad esempio in Brasile o in altri paesi, non sono fanulloni, non sono persone che non lavorano, sono di fatto persone che lavorano ad esempio molto più di me, che si arrabattano per arrivare a fine giornata, quindi secondo me oltre a un contributo monetario, se uno può svolgere un'attività di formazione per cercare di farli uscire da questa situazione, io sarei personalmente molto contento. C'è una componente in questa finanziaria molto esigua sugli investimenti, si dice che si mobilizzeranno gli investimenti accantonati dalla legge di bilancio precedente, in ogni caso quanto è stato messo a favore degli investimenti per me non è tanto, l'Italia comunque al di là di tutti i problemi che ci sono con gli investimenti ed è vero che ci sono dei problemi perché ci sono dei ritardi temporali, un altro problema collegato agli investimenti è, lo sappiamo benissimo, è la corruzione, però l'Italia ha bisogno di investimenti in infrastrutture, è sotto gli occhi di tutti e su questo i moltiplicatori sugli investimenti anche se ci vuole del tempo, sono buoni anche al netto dei diversi livelli di corruzione, almeno questo è quello che dice il Fondo Monetario Internazionale. Cosa avrei fatto io anche oltre a quello che è stato messo in questa finanziaria, cosa avrei tolto? Beh avrei in prima cosa tagliato la spesa pubblica improduttiva e qui forse mi rilaccio anche al discorso che faceva prima Michele, c'è una questione anche di credibilità internazionale, cioè se uno vuole fare il deficit del 2,4 non è sbagliato di per sé fare un deficit del 2,4, però bisogna dire all'Europa e ai mercati che noi stiamo continuando a fare i compiti a casa e siccome in Italia quando si è tagliata la spesa fino adesso si è tagliata principalmente in istruzione, sanità e in investimenti pubblici, sarebbe il caso di cominciare a tagliare la spesa pubblica improduttiva e tra l'altro su questo siamo abbastanza avvantaggiati perché abbiamo avuto una serie di piani, abbiamo avuto un piano redatto da Bondi, poi da Cottarelli, poi da Perotti e anche prima ci sono stati una serie di piani per ridurre la spesa pubblica improduttiva, c'era un posto molto interessante sulla voce di qualche settimana fa. Perché è importante tagliare la spesa pubblica improduttiva? Beh perché se tagliamo questo tipo di spesa non andiamo a danneggiare il benessere dei cittadini. Secondo me, in questo sono d'accordo con Michele, andrebbero potenziati gli investimenti nella ricerca, in particolare nell'istruzione, sono d'accordo con lui, l'università italiana è completamente sottofinanziata e ovviamente questi investimenti non andrebbero messi a pioggia, ma in parte l'università italiana va anche ristrutturata. Diciamo che le università italiane debbano finanziarsi unicamente a livello europeo, vincendo dei progetti europei, va benissimo, noi a Sant'Anna ne abbiamo già vinti un paio, però noi vorremmo avere anche un supporto, un'agenzia nazionale della ricerca a livello nazionale, a livello italiano. Rilancierei ovviamente gli investimenti come vi dicevo prima, non vorrei vedere nessuna forma di flat tax, perché tutte queste cose che si leggono che la flat tax si paga da sola e via dicendo, è una delle più grandi bufale che non è supportata da alcune evidenze empiriche e teoriche, uno può fare la flat tax, ma deve essere conscio che se si fa poi la flat tax ha un costo in termini di deficit e invece che fare la flat tax si potrebbe fermare lo svuotamento dell'IRPE, nel senso l'IRPE è ormai un'imposta progressiva, ma viene pagata unicamente dai lavoratori dipendenti, perché si è tolto un pezzo di qui, si è tolto un pezzo di là, quindi secondo me ci vorrebbe una riforma della tassazione e in particolare non vorrei cadere nei luoghi comuni, perché in genere ogni governo, ma anche ogni economista dice che in Italia è necessario fare una lotta all'evasione fiscale, ovviamente anch'io la vedo così, però vorrei darvi un altro punto, cioè la lotta all'evasione fiscale non deve essere vista unicamente in funzione punitiva, o una lotta all'evasione fiscale che diventa gravosa per i contribuenti, per cui si arriva in una situazione in cui spesso i furbi riescono a non pagare le tasse, mentre il contribuente che più o meno paga si trova in situazioni difficili, allora in questo caso ci viene in aiuto in particolare le nuove tecnologie e quello che dovremmo cercare e in parte si sta facendo anche in base alle politiche del governo precedente, è una serie di riforme per aumentare quello che sia la cosiddetta compliance, cioè il fatto che il contribuente tranquillamente di sua spontanea volontà paghi le tasse e se non le paga nella maniera corretta ci sia una segnalazione, faccio un esempio, con la fatturazione elettronica si potrebbe pensare a una situazione in cui questa fatturazione elettronica, se c'è un mismatch, se non si collinea fra quanto è dichiarato, fra l'impresa che ha emesso la fattura e l'impresa che la paga, si potrebbe pensare a una situazione in cui l'erario segnala alle imprese in modo da poterle correggere in tempo quasi reale, in modo da evitare meccanismi di evasione. Collegato anche all'innovazione e alla ricerca, secondo me c'è un problema anche di bassa ricerca pubblica e anche di bassa spesa in ricerca privata e questa secondo me dovrebbe essere attivata anche a politiche di innovazione basate su missioni, il che non vuol dire creare dei carrozzoni o creare dei campioni nazionali, ma quello che si potrebbe fare è cercare di risolvere dei problemi che affliggono la nostra società, faccio un esempio molto banale, siamo davanti al cambiamento climatico che sta già avendo un impatto molto grande per la nostra società, pensate ad esempio al rischio idrogeologico e ad altri problemi, ad esempio incendi come sta succedendo in California, risolvere il cambiamento climatico è una di quelle missioni che potrebbe richiedere una mobilizzazione di investimento privato e pubblico ed essendo per missioni potrebbe provocare degli sviluppi tecnologici in diversi settori, quindi trans settoriali e potrebbe anche portare alla creazione di nuove tecnologie, nuove imprese, nuova occupazione. secondo me in tutto questo, un'altra cosa che secondo me non è una cosa da fare nella nostra legge di bilancio, ma è una cosa che l'Italia dovrebbe fare a livello di politica estera, l'Italia deve partecipare attivamente al dibattito della riforma dell'Eurozona, perché è vero che i problemi dell'Italia non dipendono dall'Euro, i problemi dell'Italia vengono da lontano, ma è anche vero che determinate politiche europee e il fatto che l'Eurozona non funzioni molto bene, aggravano non solo i problemi italiani, ma i problemi di tutti, e questo non va affatto millantando che dobbiamo uscire dall'Euro, non dobbiamo uscire dall'Euro, questo non va affatto sbattendo i pugni con Bruxelles, questo va fatto con economisti italiani, politici italiani che si mettono insieme anche con economisti francesi e tedeschi e cercano di lavorare a una riforma dell'Eurozona, perché se arrivi a un Eurozona che funzioni sia meglio per tutti e presumo che questo tipo di miglioramento dell'Eurozona porterebbe a più Europa e non a meno Europa, butto lì qualche tipo di riforme che sono necessarie, allora noi in Europa abbiamo un problema che la Banca Centrale Europea non si comporta completamente con la Banca Centrale Europea, quello che andrebbe fatto è, se ne parla già, ma essere sicuri che si arriva ad un'assicurazione dei depositi europea, abbiamo bisogno di un meccanismo, questo lo chiede anche Draghi, di backstop europeo, cioè vogliamo evitare che crisi bancarie si trasformino in crisi dei debiti pubblici nazionali. Un'altra misura di tipo anticiclico che potrebbe riequilibrare gli squilibri all'interno dell'Eurozona è un sussidio di disoccupazione europeo, recentemente di questo ne ha parlato anche il Ministro tedesco Holtz e abbiamo bisogno anche di maggiori investimenti pubblici europei, cioè il piano Juncker non è sufficiente, si può pensare ad un grande piano di investimenti pubblici europei che permetta di riequilibrare lo sviluppo all'interno dell'Eurozona. Ora questo non vuol dire che questi investimenti pubblici devono essere gestiti dai politici italiani, ad esempio questi investimenti pubblici possono essere benissimo gestiti a Bruxelles. Bene, grazie a tutti e tre, c'è tempo sufficiente per alcune domande dal pubblico che potete rivolgere ai singoli o a tutti e tre naturalmente, vi chiedo per piacere di non fare degli interventi lunghi ma semplicemente delle domande in modo da sentire cosa ci dicono i nostri tre oggi. C'era una domanda là giù? Volevo fare una piccola considerazione, il motivo per cui non si fa la riforma dell'Euro, la riforma della governance europea è esattamente l'Italia, non si fa l'assicurazione dei depositi, perché nessuno in Europa si fida dell'Italia e del fatto che quell'assicurazione per i depositi venga usata surrettiziamente per fare imbrogli a cui tutti i governi hanno abituato i nostri partner da vent'anni oltre a questa parte. Noi siamo il paese che solennemente conciampi persona di straordinaria caratura, aveva promesso all'ingresso nell'Euro di tagliare il debito pubblico al di sotto del 100% prima del 2000. Quindi questa è l'Italia di cui i nostri partner si ricordano, che noi abbiamo la memoria del pesce rosso. Tra l'altra parte no. L'assicurazione contro la disoccupazione in Europa non si fa perché in Italia ci sono troppi lacri e troppi furbi e i tedeschi non vogliono dare una cosa del genere in mano agli italiani. E posso continuare su tante altre cose. Quindi il problema è prima l'Italia mette ordine a casa propria, poi si può parlare di tutto questo. Perché oggi come oggi l'Italia non ha assolutamente un bricio di credibilità a livello europeo. Grazie, sono Francesco Renne e volevo fare due domande. a tutte e tre i relatori, di fisco e di banche, così andiamo al sodo. Nella lettera che ha affermato il ministro Tria rispondendo alla Commissione europea, c'è la penultima frase che vedo andando a memoria, dove si dice che il MEF ha l'obbligo di monitorare l'andamento dei conti pubblici e in caso di sforamento di questo famoso 2-4 deve intervenire con manovre correttive. In corso d'anno, manovre correttive per correggere quel valore vuol dire una sola cosa, fattibile, patrimoniale straordinaria. È vero o no? Prima domanda. Seconda, quale credibilità possiamo avere dai vari collegati a questo DEF, dove avendo fatto una scelta di scontro con la Commissione europea, con gli effetti sullo spread che vediamo, la credibilità è un emendamento presentato in Parlamento per nascondere la polvere sotto il tappeto, per mettere in condizione alle banche non quotate, di valutare i titoli di Stato, al costo storico, al valore nominale, per non far emergere queste svalutazioni, che significa dopare i valori di bilancio e la comparabilità delle banche, dopando il loro patrimonio di vigilanza. Ecco, io mi chiedo come queste due cose possano generare serenità nel cittadino, la prima, e credibilità a livello europeo, la seconda. E volevo sapere cosa ne pensavate voi. No, la mia non è attenente alla scuola. Comincio io che faccio... Sì, abbiamo detto di cominciare a capirci, sì. Cambiamo l'ordine, esatto. Dunque, allora, se venga prima l'uovo, la gallina, riforma Eurozone, Italia prima... Io mi astengo, mi astengo, lo prometto, mi astengo perché sennò è troppo lunga. Adesso, un'altra roba. Allora, signori, l'assicurazione sui depositi c'è. C'è una direttiva 2014, è sviluppata a livello nazionale e c'è un progetto, chiarissimo, nel 2015, Banca Centrale Europea, guarda, cercami la pagina perché ho avuto un momento di dubbio, basta che cerchiate voi stessi con Google, c'è, i problemi di attuazione sono tutti quei governi nazionali, quindi non è proprio un gran problema, basta cercare Bank Deposit Insurance Europe, trovate subito. Sì, ok, va bene questa cosa, c'è un unico problema, che non è un automatismo, cioè deve passare attraverso una decisione politica su cui c'è possibilità di veto, e sono veri entrambe le cose, c'è, c'è il punto del veto, Fabio ha ragione sul puntualizzare che c'è la possibilità di fermare il processo, d'altra parte esiste l'infrastruttura, quindi insomma, diciamo che non è un'assicurazione sui depositi in senso pieno, alla Federal Deposit Insurance, ma insomma, non è il senso, però, ai due punti fondamentali, fisco e banche. Ora, una delle riforme più, non dovuta al, approvata dai tempi del governo Renzi, ma non dovuta al governo Renzi precedente, una delle riforme, perché è super tecnica, e quindi sembra assolutamente poco importante, in realtà è centrale, è il fatto che, come voi sapete, noi in notizia dall'anno scorso non votiamo più la, si chiamava prima finanziaria, dopo si chiamava, sono già dimenticato, come si chiamava ragazzi? Stabilità, grazie, la legge di stabilità, ne ho anche fatte tre. L'ultima, si chiamava legge di bilancio, ok? No, fatte se sono partecipato al processo, insomma, e, si si fa, e, si, ho fatto le parti peggiori, ok, legge di bilancio, si approva tutta legge di bilancio, che vuol dire che il bilancio dello Stato adesso è elevato a livello di legge, vi può sembrare una stupidaggine, ma vuol dire che il Ministero dell'Economia ha molto più potere rispetto al passato, perché all'interno di ciascuna posta di bilancio, il Ministero dell'Economia senza passare attraverso il Parlamento, cioè senza rialloccare soldi da una posta di bilancio all'altra, cioè i soldi che diamo a Boldrini, i soldi che diamo a Roventini, non li posso spostare, ma all'interno dei soldi che do a Boldrini o a Roventini, io posso decidere di cambiarli, o posso intervenire, attenzione, cruciale, intervenire anche per tagliare quei trasferimenti qualora questi siano in violazione della posta del deficit, del livello di deficit a cui io mi sono impegnato. Quindi, in punta di diritto, come direbbero i gesti, ma soprattutto a un punto di vista molto concreto, il Ministro dell'Economia quando scrive, non so con quale consapevolezza, nella lettera, guardate che noi possiamo intervenire per bloccare, per assicurarvi che faremo deficit al 2,4 e non arriveremo al 3,4 che prevede Michele, lo può fare già senza intervenire fiscalmente, cioè senza patrimonializzare o senza fare nulla, deve semplicemente andare, adesso qui arriviamo al problema, da ciascuna voce di spesa, ciascun ministero, ciascun centro di spesa e dire tu dovevi spendere 100? Spendi 80. Io Ministro dell'Economia posso vincolarti a farlo perché se ti permetto di spendere 100, allora tu fai in violazione del numero di deficit. Questa possibilità esiste da quando esiste la legge di bilancio e se abbiamo superato la legge di stabilità. Ora io vorrei semplicemente sottolineare, questo è importante, che questo è assolutamente inverosimile però, lo capiamo tutti che è inverosimile, è inverosimile che il Ministro dell'Economia vada in tutti i glangli dello Stato e lo blocchi. Quindi il problema esiste, ne ha lo strumento, non ha scuse come posso dire, e io non sono certo che capiscano quello di cui, non sono certo che i decisori politici abbiano capito l'impegno che hanno preso firmando quella lettera. Ma il Ministro dell'Economia ha gli strumenti per intervenire, bloccare la spesa in termini automatici o pseudo automatici con alcuni vincoli, senza spostare, non è che possono decidere, per esempio possono decidere di spendere di meno per reddito di cittadinanza, non possono decidere di spendere di più sulle pensioni e di meno per reddito di cittadinanza, devono stare, hanno quei vincoli lì. Secondo punto sulle banche, vabbè sulle banche lì siamo, quella roba lì intanto, sulle banche è molto probabile che la cosa non passi neanche, noi ci prendiamo lì una semplicemente derogare ai principi europei per la definizione delle poste patrimoniali all'interno degli studi di credito di cui le BCC fanno parte, aggiungo, di cui le BCC fanno parte e faranno sempre più parte perché con la riforma delle BCC rilevano da un punto di vista regolamentare l'unione delle BCC, è assolutamente impossibile. Quindi se anche il governo dice questa cosa, lo dice sapendo che non potrà essere applicata. Sì, ma è completamente cambiata, assolutamente hai ragione, c'è il Presidente di Tremonti, ma attenzione è cambiata completamente la supervisione, i poteri di supervisione della Banca Centrale Europea e degli studi europei. Ultimo punto, e questo ultimo punto è, voi potreste dire ok va bene, le cose non vanno benissimo, però c'è la possibilità di prendere un po' il meglio del passato e migliorare le cose. Uno degli argomenti, questo faceva Andrea prima, era quello di riprendere un argomento del governo, non era il tuo argomento, dicevi il governo si è impegnato a riprendere alcuni, siccome siamo tutti d'accordo che mancano gli investimenti, a riprendere alcuni degli investimenti che non sono stati fatti del passato, cioè poste di bilancio che esistono in passato, e spenderli adesso, per aumentare quindi quei 3 miliardi di investimenti che noi vediamo nella legge di bilancio 2019, sono un limite inferiore, perché ci può aggiungere quello del passato. Questo è falso, vi spiego perché è falso, è falso dal punto di vista tecnico falso, nel senso che noi sappiamo, chiunque abbia un'azienda, o chiunque sa benissimo che il bilancio si fa per competenza e non per cassa, e anche il bilancio dello Stato si fa per competenza e non per cassa, tranne che per gli investimenti, perché capite perché gli investimenti si fanno per cassa, perché se tu vuoi un orizzonte di determinazione così lungo, per cui io oggi faccio un legge di bilancio nel 2019, per investimenti che probabilmente succederanno nel 2020, 2021, quando quegli investimenti li vado a fare, se vado per competenza dovrei metterli in carico al 2019, il che rende la finanza pubblica assolutamente impossibile, e infatti il modo in cui questo viene derogato, nella prassi, è che gli investimenti si utilizzano, le poste di investimenti si mettono a bilancio solo quando vengono spese, perché tutti sanno qual è il giochino, io metto investimenti, poi non gli faccio, uso quella leva per aggiustare i conti fondamentalmente, quindi noi dobbiamo capire, dobbiamo essere meno consapevoli del fatto che quando si dice prendiamo investimenti già deliberati, legge di bilancio di passato ma che non sono stati fatti, si sta parlando di fare una cosa che è impossibile a meno che non si faccia, passa per un voto in Parlamento, qui si cambia il numero del deficit, si cambia il numero del debito e poi si può fare, ma si passa per quella via lì, se no non si può fare, dico questo perché a prescindere da quanto ci interessino meno gli investimenti almeno dobbiamo essere consapevoli di quello che si può fare e quello che non si può fare, uno che ti dice usi gli investimenti deliberati ma non spesi come se fosse un'azienda, non conosci la finanza pubblica, ovviamente questo non è il caso di Andrea, è il caso di chi l'ha detto. Sulla questione del VG ho detto quello che penso, quindi non mi sembra una questione, credo che anche qui faccio il giamburrasca necessario, c'è una cosa da riformare fondamentalmente, vera nell'Eurozona, questo è un altro discorso che viene da ambienti con i quali, si chiama anche di essere fra un coi, Andrea Roventini si identifica o ha scelto di essere associato ed è un discorso falso, un discorso menzognero, un discorso retorico che va chiamato con quel nome, questa chiacchiera della riforma e l'Eurozona che vedo afferrare, poi abbiamo i giornali di regime tipo 24 ore che ospitano dibattiti più o meno ridicoli organizzati da Luigi Zingale su riformiamo l'Eurozona, è una bagianata, sono bagianate, perché? Si la tocco piano, ma ragazzi ci smettiamo di raccontarci bugie, perché poi tutte queste cose finiscono per l'elenco, Andrea ne ha fatto due esempi, ma sono tutti uguali, hanno tutti la stessa cosa, l'Europa deve darci più soldi, bene, popolo italiano volete che l'Europa come dire dia più soldi, votate per il partito federalista europeo, cedete potere, potere politico e fiscale ai cosiddetti, che non lo sono, burocrati europei. Punto, fine, perché vedo continuamente giornali di tutti i tipi pubblicare pomposi articoloni pieni di menzogne da futuri o da cattuali candidati alla presidenza della Consum, si ci batto, vediamo se mi querela, ok, dall'abitudine mi quereli, ok, pieni di menzogne sul fatto che noi non siamo gli Stati Uniti d'America, no, non siamo gli Stati Uniti d'America e lo sapete perché? Perché qualcuno non vuole gli Stati Uniti d'Europa, non che io personalmente li voglia, sono una persona molto più realistica e credo che certe cose si facciano lentamente, il giorno avremo un linguaggio comune, per esempio, tutti parleremo ovviamente inglese perché non c'è altro, io preferirei il veneziano, ma il doge mi fregò, l'unica lingua che parlo con l'accento appropriato, tutte le altre sono l'accento veneziano, quindi io preferirei il veneziano, ma hanno detto che a Hamburgo hanno difficoltà, eh vabbè, ci acconteremo l'inglese. Quindi smettiamola con questa storiella, cioè volete riformare l'orzona? Sì, bisogna fare un'unione bancaria europea per davvero, sapete come si fa? Smettendo di fare i trucchetti sulle banche nazionali, perché è inutile continuare a puntare le dita sui tedeschi che pure loro le fanno con il loro Landesbank, noi siamo i maestri, siamo i capi fila, quindi se vuoi diventare un leader europeo sulla questione lo diventi nei fatti, fai i compiti per casa meglio di tutti, riaggiusti il tuo sistema bancario, eviti i trucchetti, qui siete dentro tutti, MPS, banche popolari, via, da Bossi a Renzi è tutta una festa e mostriamo come si fa l'unione bancaria europea, signori e così, Citibank è una banca che c'è in tutti gli Stati Uniti d'America, capite? Non possiamo avere un'unione bancaria, mi ricordo discutendole proprio con il mio ex maestro Mario Draghi di questo, Mario gli giustamente diceva Michele, non lo posso mica fare io, ha ragione, inutile andare a chiedere all'ICB di fare ciò che l'ICB non può fare, capite? Fare i pezzettini, fare sì che Deutsche Bahn, Santander, Credilionet cominciano ad essere presenti davvero in questo paese, tanto quanto le banche intese, in cambio di banche intese ad essere presenti a Parigi, è una cosa che devono decidere il signor Conte al momento e il signor Macron non lo può decidere Mario Draghi, quindi è inutile continuare a chiedere al terribile banchiere cose che non gli pertengono e che lui di suo, siccome tanti difetti ha come tutti gli esseri umani come me, ma quello di essere scemo non ce l'ha, sarebbe contentissimo di fare, quindi smettiamola di nuovo, spaziamo dal dibattito pubblico questa retorica sulla riforma dell'eurozona, perché sono una sequenza di bugie, lo stesso per i sussidui di disoccupazione, vogliamo il sussidio di disoccupazione europeo, uniformiamo a standard olandesi la gestione dell'amministrazione pubblica, le regole del mercato lavoro, voglio vedere il signor Di Maio che voti becca ad Avellino, offendetevi pure, l'ho fatto apposta, quindi davvero bisogna togliere di mezzo e questo mi dispiace, questa cosa è il regime forfettario, io sono noto per essere odiato dai microimprenditori perché dico che occorre lasciare che le regole del mercato li decimino, il regime forfettario non è caso che si sia in metà di tramonti, questo è pessimo accattonaggio di cattolicesimo stile vaticano 1600, poverini siccome sono improduttivi gli taglio le tasse, gli faccio fare evasione fiscale, che vada a fare un altro lavoro, tradotto in italiano, che vada a fare un altro lavoro, cos'è sta roba che siccome sono poco produttivo, questo veramente mi ricorda la signora questa estate in Salento che mi diceva, è vero qua vediamo tutti le tasse, siamo troppi poveri, non ci possiamo permettere le tasse, sì signora ma vi potete permettere l'audi, cerchiamo di togliere questa ipocrisia, i regimi forfettari sono sussidi di una classe politica che compra voti dalla parte improduttiva del paese, volete sapere come crescere? Si cresce trasformando i 4 milioni, 5 milioni, 6 milioni di improduttivi, questa è la crescita economica, tutte le altre sono chiacchiere, la crescita economica è quella roba lì, è quel processo, chi ha letto l'ideologia tedesca, adesso so chi cito, che cambia lo stato di cose esistente, lui lo chiamava comunismo, invece era la crescita economica, la crescita economica è quella serie di incentivi e di azioni che prendono l'improduttivo meccanico di Caltanissetta e lo trasformano in un produttivo ingegnere da qualche parte, forse anche Caltanissetta si riesce a fare l'impresa lì, ma questa è la crescita economica, la decrescita infelice, l'accattonaggio, la miseria, la politica mafiosa è quella che fa, come li hanno chiamati, mi sono supportato persino il nome, i regimi forfettari e poi li amplia, rendetevene conto, se non si riesce a mettere insieme queste due cose, che inventandomi tasse e esenzioni speciali per chi è improduttivo li mantengo nell'improduttività, creo incentivi a non essere produttivi, creo incentivi a essere furbi, creo incentivi a stare sotto radar, allora non capiamo da dove venga la crescita economica, l'enfasi ce la sto mettendo apposta, queste cose vanno stampate in testa e vanno dette con coraggio o il paese non ne uscirà più, vanno dette e sfido chiunque a dimostrarmi che ho torto, andate a vedere cos'è la Cina e perché è cresciuta ed è passata in 40 anni, ha fatto 700 anni di sviluppo economico, perché ha avuto il coraggio di accettare anche i costi sociali e per carità non è che sia il modello, hanno fatto questa cosa gigantesca anche perché hanno un regime politico di un certo tipo, che non sto raccomandando, ma noi avevamo un problema infinitesimo rispetto a quello cinese, questi dovevano riuscire a passare 1200 milioni di persone, 22 Italie da una condizione di vita da 1200 alla condizione di vita del 2000, noi dobbiamo passare 10 milioni di italiani, 15, da condizioni di vita di produttività 1970 a condizione di vita di produttività 2010, quindi cerchiamo di mettere tutto in proporzione, però questo di cui abbiamo bisogno, questa è la crescita e questa è la risoluzione del problema della povertà, questo pietismo che noi combattiamo la povertà con i trasferimenti assistenziali, ma davvero, lo chiedo onestamente a Andrea e Filippo, davvero ciò che voi avete studiato vi dice che si fa così? Dove nel mondo abbiamo mai risolto il problema della povertà in quella maniera? E poi stiamo attenti a utilizzare le parole, cioè quando diciamo povertà ci si immagina milioni di persone che vivono nelle condizioni di Calcutta, in Italia Calcutta, ok? E non è così, non è così, certo ci sono persone che vivono in condizioni economiche disagiate, ma con redditi effettivi pari, viste le zone dove vivono, a 1000 euro a Bologna, prendiamocene conto, cioè di cosa stiamo parlando e ricordiamoci di nuovo il proverbio cinese che ho usato anche l'altro giorno, che mi è sempre piaciuto, se vuoi sfamare una persona per un giorno regalali il pesce, se vuoi sfarmarlo per tutta la vita insegnagli a pescare. Ecco, il reddito di cittadinanza è regalare pesce, marcio. Andrea vuoi rispondere anche tu? Rispondo alle domande e in parte riprendo alcune cose che ha detto Michele. Allora, parto dalle cose più semplici, la sua domanda sul discorso della patrimoniale, penso che Filippo l'ha già dato una spiegazione molto tecnica, quello che le posso dare io che non è tecnica come quella di Filippo, è che non penso che se un governo vuole vessare i suoi cittadini debba ricorrere per forza alla patrimoniale, sono tantissimi meccanismi che vanno dall'aumento delle tasse alla benzina, va al blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici oppure si tagliano gli stipendi dei dipendenti pubblici come è avvenuto in Grecia, quindi non penso che questa sarà l'unica cosa che potrebbe fare questo governo. Magari non è neanche necessario che la faccia, nel senso che non è detto che dal 2,4 si vada al 4,2, poi non lo so, la risposta del governo secondo me non era fortissima per togliere i dubbi dell'Europa. Per quel che riguarda le banche, sono d'accordo con quello che ha detto Filippo, qua vorrei dire però una cosa, qui c'è un problema più generale sul mark to market, diciamo che l'introduzione del mark to market ha creato, almeno quello che vedo io, ha creato instabilità sui mercati finanziari, quindi bisogna ripensare, ma questa è una questione di regolamentazione mondiale se abbandonare questo mark to market o no, perché crea dei circoli viziosi, quindi come ci sono delle strette creditizie. Non quello che c'era prima. Scusa, c'era prima? Abbiamo due problemi, 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 quindi con il troppo non si interagisce. Sul regime forfettario, sono d'accordo con Michele, infatti su alcuni temi siamo ad accordi, e qui c'è anche molta evidenza empirica sul fatto che c'è il cosiddetto problema di the best and the rest, cioè se voi guardate le statistiche il supporto delle imprese, soprattutto dopo l'ultima crisi, sta diventando molto grande, quindi questo in diversi paesi ma anche in Italia, cioè ci sono molte imprese improduttive che stanno sopravvivendo. Quindi in questo caso farle sopravvivere o con l'evasione fiscale o con il regime forfettario o puntando unicamente sulla riduzione del costo dei lavori invece che sull'innovazione non mi sembra una strategia illuminante. Poi, diciamo, dulcis in fundo, parliamo del dibattito sull'eurozona, non so a chi mi accompagnavi Michele, perché il dibattito sulla riforma dell'eurozona è un dibattito che avviene anche in sede internazionali, avviene in sede politica, sono state proposte delle riforme ad esempio dalla Commissione Europea che non sono state considerate, sono state proposte delle riforme dallo stesso Fondo Monetario Internazionale, il fatto che l'euro non funziona, non va visto nell'ottica di facciamo funzionare l'euro per farci guadagnare l'Italia, noi dovremmo modificare l'eurozona e questa è una cosa che va fatta a livello politico, quindi non va fatta da Mario Draghi e non va fatta né da me né da te, va riformata a livello istituzionale e in questo l'Italia secondo me ha perso un'occasione perché Macron aveva lanciato una serie di proposte per riformare l'eurozona e l'Italia invece di fare inutili polemiche giorno per giorno insultando Macron in ogni possibile modo avrebbe dovuto forse seguirlo o comunque contribuire a questo dibattito e questo è un processo politico. Con la sua domanda, mi sono dimenticato il nome, secondo me lei dà una visione molto parziale, cioè che non si fa un'assicurazione dei depositi e non si fa la disoccupazione europea per colpa dell'Italia, qui innanzitutto sull'assicurazione dei depositi è vero che c'è, non funziona bene, può essere migliorata, io stesso ho sentito Draghi la scorsa primavera chiedere che venisse introdotto, eravamo a Firenze, il backstop o venisse potenziato, venisse fatta in maniera effettiva questa assicurazione sui depositi. Innanzitutto non so se è un problema solo dell'Italia, se vogliamo proprio prendere la sua posizione, perché allora a questo punto possiamo anche parlare dei pigs, perché diciamo se consideriamo la crisi greca ha creato dei problemi alla Spagna, al Portogallo e all'Irlanda e io non penso che il nord Europa in questo momento si fidi completamente del Portogallo, della Grecia o della Spagna. E di nuovo, l'assicurazione dei depositi non l'ho proposta io, c'è un dibattito su Voxeo, quindi non è un dibattito di economisti da due soldi italiani, c'è un dibattito su Voxeo ed è stata proposta lo stesso Ministro delle Finanze tedesche, per darvi l'idea che è un dibattito ampio e secondo me l'Italia sbaglia a livello politico e anche a livello economico a non farci parte, perché altrimenti si rischia di cadere in certi dibattiti sterili in cui abbiamo in Italia, dove purtroppo si sta lì ancora a parlare se dobbiamo uscire dall'Euro o no. Sono dibatti secondo me folli, perché l'Italia non può permettersi di uscire dall'Euro e l'Italia insieme agli altri paesi in maniera collaborativa deve modificare le regole dell'Eurozona che è sotto gli occhi di tutti che non funziona. Con le domande, non so se riusciremo a coordinare i temi, ma intanto diamo la parola. Sì, sì, la domanda sarà anche sintetica. Allora, tra il tasso di crescita del PIL e il tasso di crescita della popolazione, è una correlazione quasi perfetta. In Italia, così come anche in altre economie occidentali e non, entrambe le serie storiche sono in declino. Ora vi chiedo, senza debito, come può crescere il PIL di uno Stato se non cresce la popolazione e se sì come? Grazie. Il Giappone? La risposta è rapidissima. In assenza di debito pubblico o privato? Irlanda? Vorrei soltanto dire, porre l'accento sul discorso della giustizia. Come si fa a intercettare gli investimenti in un paese dove non funziona la giustizia e i processi vanno avanti in 20 anni? Io stesso ho un'esperienza diretta dove devo arrivare ancora a primo grado su un'obbligazione di una società che è andata indefendosa e in 10 anni ancora dobbiamo arrivare a primo grado perché nessuno ne parla. Allora, chi è che viene a investire qua dove i processi non funzionano? Funzionano soltanto per quelli che hanno gli avvocati che hanno un certo livello. Quello è un discorso fondamentale. Poi la situazione del Sud è qua. Cioè, riformare una situazione come Napoli. Io non so se abbiamo idea di come fosse Napoli. Tutta funziona, tutta è sulla regolarità. Cioè, fallisce il Sud. C'è una domanda lì, vedo. Poi forse uno là in fondo, poi forse potremo anche… Molto sinteticamente. Negli ultimi anni le leggi finanziarie a partire dal 2008 hanno previsto delle misure di detassazione del salario di produttività. A partire dal 2015 c'è una misura strutturale di detassazione che consente anche le misure di welfare aziendale. chiedo questo. Queste misure nell'ultimo DEF sono assenti? Secondo voi sono misure che servono o no? Grazie. Ritorniamo a questa che potrebbe anche essere l'ultima perché non so che ora ci cacciano. Dunque, le mie domande sono un po' più terra terra su alcuni punti che mi sono perso. Allora, la prima per il professor Roventini. Quando lei parlava di ridurre la spesa pubblica improduttiva, volevo chiedere se mi può fare qualche esempio pratico di cosa intende per spesa pubblica improduttiva, che tipo di spesa tagliare. Invece, per quanto riguarda il professor Boldrin, volevo chiedere, lei ha parlato di cercare di mobilitare, cercare di spingere i privati a fare investimenti anche indebitandosi. Volevo chiedere come pensa che questo si possa fare, con quale mix di politiche economiche si può ottenere questo. Grazie. Quindi darei la parola di nuovo agli speaker, magari dando la facoltà di rispondere solo a quello a cui ritengono di rispondere. Possiamo cominciare da Andrea che ha una domanda anche specifica sulle spese improduttive e puoi continuare. Riguardo al tasso di crescita del PIL della popolazione, basta il tempo. Quindi non fa testo, io ho detto che entrambe le sere storiche sono negative. Nel caso dell'Irlanda, l'Irlanda è tra i paesi europei con la più alta crescita. Posso rispondere, rispondo io, poi vedi se ti va bene la mia risposta. Se vogliamo considerare il tasso di crescita del PIL della popolazione, secondo me non sono indicatori molto utili, nel senso dovremmo considerare il tasso di crescita del PIL pro capite. Ora io vorrei che crescesse il PIL pro capite italiano, non che il PIL italiano cresci perché come qualcuno negli anni 20, negli anni 30 voleva che facessimo 10 o 20 figli, quindi io mi baserei su questo. Sulla giustizia come riforma strutturale, questo secondo me è la riforma strutturale forse più importante che questo paese ha bisogno. Io stesso nel mio piccolo ho avuto esperienze, mi ricordo anche mio papà aveva un'azienda e notavo immediatamente che quando c'erano dei contenziosi in Germania, venivano liquidati in un mese, due mesi, in Italia andavano avanti per anni. Purtroppo in questo paese, io direi almeno dal 1994, si è cercato di fare di tutto per sabotare la nostra giustizia, quindi ci sono moltissime cose per migliorarla. Detto questo, io non vorrei pensare che il Sud è irriformabile e quindi non possiamo fare nulla per il Sud, è un problema, è un problema che ci trasciniamo dietro dall'unità d'Italia, in alcuni decenni abbiamo fatto meglio, ultimamente stiamo facendo molto male, io vorrei che il problema del Sud venisse risolto e si mettesse in campo anche delle politiche per il Sud, non vorrei rinunciare, anche perché è un pezzo grande del paese. Sulla detassazione, salario, produttività, non sono misure che mi vedano particolarmente favorevoli, non penso che siano sufficienti a far ripartire la produttività e la crescita del nostro paese, in generale gli incentivi orizzontali alla crescita della produttività non è che funzionino benissimo. Esempi di come ridurre la spesa pubblica in produttiva? Beh, un esempio molto stupido e la cifra è molto piccola, ma uno può pensare, il tipico esempio è AutoBlue, uno può pensare a tutte le società partecipate, uno può pensare di far funzionare meglio la centrale unica di acquisto per la pubblica amministrazione e così via. Comunque quello che per me è un po' bizzarro è che in Italia abbiamo collezionato una serie di rapporti su come tagliare questa spesa pubblica in produttiva, abbiamo una serie di rapporti fatti ad esempio anche da Giavati su come tagliare i sussidi alle imprese e questi rapporti non vengono implementati o non vengono discussi completamente dai governi, incluso questo. C'è un'altra cosa? Mi sembra di no. Sì, direi di sì. Ma Michele, anche lui aveva una domanda ad hoc. Sì, sulla questione specifica del giovane Otto che continua a chiedere, ha già risposto Andrea, il pil per capita, l'Irlanda, guarda che io non ho scelto gli esempi a casa, se ti guardi i dati della popolazione dell'Irlanda, vedi che l'Irlanda comincia a crescere con ambi drastici di politiche fiscali e di politiche industriali attorno all'85, la sua popolazione è praticamente costante fino alla fine degli anni Ottanta, quindi se vuoi proprio un esempio ce l'hai. E anche adesso, negli ultimi anni, la popolazione dell'Irlanda, sono andato a controllare ma me lo ricordo, ha avuto un particolare salto di ritorno di irlandesi negli anni 90-2000, cresce lentissimamente. Quindi l'esempio va. Giappone ovviamente lo stesso, il pil per capita giapponese, il pil per ora lavorata in particolare, cresce a numeri che non sono quelli degli Stati Uniti, sono molto vicini ed è tutta crescita tecnologica, perché infatti avendo una popolazione qui deve stare molto attenti a non fare confusioni fra aggregati e per capita. La produttività Toyota non cresce per effetto del folle debito giapponese che infatti è servito a nulla e ha prodotto assolutamente nulla. Sulle politiche, ma guarda la risposta banale ovviamente crei le condizioni attraverso cui quegli investimenti avvengono in tutto il mondo, cioè avvengono anche in Italia, il problema italiano, quindi chiediamoci cos'è che porta questo o quell'altro a indebitarsi, prendere i soldi del papà, vendere a volte la casa o ipotecarla per aprire l'azienda o per aumentare l'azienda. Lo viene portato a fare queste cose da una varietà di circostanze, fra cui ovviamente la prospettiva di essere in grado di produrre la cosa che vuole produrre a costi ragionevoli, di poterla vendere, di avere le autorizzazioni amministrative per farlo eccetera, cioè il complesso di tutto l'interno dibattito, ognuno dei tre ha elencato alcune delle cose, il vero problema italiano è che ormai abbiamo un cumulo di politiche, istituzioni, regole, abitudini, chiamarle come vuoi tu, che rendono sempre più difficile fare quel tipo di investimenti, non è che non se ne facciano grazie a Dio, qualcuno se ne fa ancora anzi, ma che li fanno diminuire nel tempo che ci sta uccidendo, l'esempio mio era ovviamente costruito per cercare di far capire che la mitologia del moltiplicatore da spesa pubblica assistenziale tale è e che non si parla per caso quando si dice ecco se vuoi, mi sembra palese, al di là di tutti questi dibattiti di lana caprina se lo spread aumenta o non aumenta il tasso dei mutui, è palese da annunci pubblici oltre che da dati, che operazioni di finanza pubblica mal assortite o suicide o addirittura pericolose come quella in corso aumentano il costo dell'acquidità e del credito per il paese che le fa, punto fine. Ora io non sono fra quelle persone che ritiene che basti abbassare i tassi di interesse e spuntano investimenti meravigliosi, però sono una di quelle persone che crede che quando sei in un paese poco produttivo i margini sono bassi e hai già difficoltà a investire, variazioni di 100, 200, 300 punti che poi le variazioni dello spread sul titolo di debito pubblico si amplificano, vengono trasmesse con un moltiplicatore, dal sistema bancario a chi prende a prestito danneggiano, al margine ovviamente una variazione di 300 punti nello spazio di un anno nel costo del credito danneggia come se danneggia, quindi se vogliamo una cosa immediata la possono voltare e girare quanto vogliono in televisione, questa cosa dello spread se continua ancora un po' se non c'è la capacità da parte a questo punto del governo italiano di ristabilire un minimo di credibilità e di fiducia, ci troveremo di fronte a situazioni di credit crunch serie nello spazio dei prossimi sei mesi, non ci sia dubbio alcuno, poi sei mesi saranno sei mesi e tre settimane o cinque mesi e due, fa poca differenza, il punto vero, drammatico ed è bene che se lo ficchino in testa, questi pseudo economisti dal crostarolo al water, è quello ed è bene che se ne rendano conto, stanno creando la recessione e ne sono perfettamente consapevoli, solo che essendo degli irresponsabili continuano a farlo. Sì, è colpato, credo di aver risposto, sono due ore che ci ascoltate, due ore e zero e anche da padrone di casa quindi alla percezione di quando saremo cacciati fuori infatti siamo cacciati fuori tra un minuto e quindi mi prendo 30 secondi per ciascuno dei due punti, nessun argomenta sulla crescita senza debito, nessun argomenta che un funzionante mercato del credito non generi debito e che quindi il debito sia necessario per creare investimenti, proprio soprattutto per il fatto che tipicamente le buone idee non seguono i soldi e quindi chi ha le buone idee magari non ha i soldi, è vero il contrario, sono i soldi che seguono le buone idee, quindi il problema del paese è come andiamo a spostare risorse per finanziare quegli investimenti che mancano, mancano in quantità e mancano anche in allocazione. Ora per fare questo ci riporto dentro la discussione di prima e quindi teniamola lì. Ora naturalmente ci sono però due livelli, c'è la quantità di investimento e poi cosa te ne fai con quei soldi. Una delle cose più importanti che noi abbiamo valutato, che noi abbiamo scoperto è che quando quei soldi vengono poi riversati si tratta non solamente di adottare tecnologia ma di organizzare il lavoro intorno a questa nuova tecnologia. Il punto del beneficio fiscale al salario di produttività piuttosto che al welfare aziendale era quello, era creare uno strumento per rifavorire la riorganizzazione aziendale, cioè un fluidificante dal fatto che non possiamo pensare che con una tecnologia così dirompente noi possiamo organizzare il lavoro nella maniera in cui lo organizziamo da 30 anni, in cui peraltro funziona male. E allora pensi a esattamente come fluidificare, trasformare, spingere in là quella trasformazione. Questa è l'idea per cui la detassazione del salario di produttività del welfare viene poi introdotta. Ora, e qui il mio punto invece di dissenso con Andrea, e questa cosa viene fatta in termini automatici perché per tutta la storia che vi ho raccontato, almeno nei miei interventi oggi, per tutte le difficoltà di questo paese di creare investimenti specifici, di identificare quello che serve e quello che non serve, tutto questo è non solo difficile ma abbiamo una limitatezza nella nostra capacità amministrativa di farlo. E allora in questo paese forse dovremmo considerare che il tipo di incentivo orizzontale, come l'ha definito Andrea, cioè automatico, come lo definisco io, forse paga di più rispetto a quella marea di incentivi che hanno costellato tutta la nostra politica industriale o supposta tale e che hanno prodotto assolutamente nulla se non al limite ruberie oppure debito pubblico aggiuntivo. Su questa lieve nota vi saluto tutti e vi ringrazio per essere stati qui e averci ascoltato. Che dire, ringraziamo i relatori per la qualità degli argomenti, per il ritmo che ha tenuto la sala inchiodata per due ore, ma anche per le idee che sono emerse, perché non ci siamo limitati oggi solo a commentare la manovra economica, ma alcune idee che sono uscite e in particolare voglio ringraziare il professor Boldrin per la sua brillante intuizione su questo sistema pensionistico tailor made che è emersa oggi e per quell'analisi che ci ha portati a capire da dove inizia la curva della nostra produttività, quindi ci ha fatto risalire un po' indietro nel tempo, quindi vediamo che la responsabilità non è così recente. ringrazio il professor Taddei oltre per l'ospitalità per questa vivace difesa del REI e della Fornero e per il portato della sua esperienza politica recente. Il professor Roventini per questa intuizione, questa idea di questa agenzia nazionale della ricerca che potrebbe essere in effetti un modo per rilanciare e per questa sua difesa dei tagli della spesa pubblica improduttiva nonché per aver escluso la patrimoniale che questo tranquillizza qualcuno. Ringrazio da ultima ma non da ultima la professoressa Bertocchi per la magistrale conduzione dei lavori di oggi, ringrazio l'università John Hopkins, degli studi internazionali avanzati, ringrazio tutti gli intervenuti e un arrivederci ai prossimi eventi formativi di Via Italia. Grazie. 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 Grazie.